pizza pesce piccolo pizza pesce piccolo allora pubblica questa live ok perfetto le live della basta la porca puttana a tutto il cazzo non si può fare niente con pizza ok ho salvato il video adesso ragazzi sto aprendo il server è online il server potete andare nella stanza minecraft comunque stavo scherzando ancora non ho aperto sto aprendo adesso ah comunque ragazzi ciao buonasera mi fa piacere che siete tutti carichi per il server già siete qui presenti infatti siete in anticipo di 10 minuti sono molto contento di queste vostre prestazioni a letto ah io c'è un problema non serve il server dice errore mod geforce che cazzo ho combinato che cazzo ho combinato no vai giù no vai giù che cazzo ho combinato niente in realtà funziona tutto come sempre u a u a u a u a u a u a u a u a c'è solo un voge in questo villaggio lo conquisterò con il mio cuore u a u a u a u a u a il villaggio appartiene al doge di conquisterò tutto il mondo u a u a u a u a u a u a u a u a u a u a u a la via è la via della repubblica serenissima di osiris a su a u a u a u a 3 possiamo migliorare questo location di noi Allora intanto Il server inizia sempre che giorno Prima di tutto Per rispetto di tutto Due, ci sono due persone là La tua attività vorrei dire Due persone sopra Ma che cazzo state facendo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma io sono buggato Che cazzo l'ha costruito sto server Carbo del cazzo Ma quando Sette volte Ma quando 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 Ma Vieni Dai Non abbiamo parlato Allora Comunque si chiama Felipe Per favore Un po' Gilberto Un po' si contenga A chiamare un cileno pizza C'è un'offesa per gli italiani Secondo te una scimmia del genere Può essere una pizza Ah magari Ah oh 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 che combo Pensino a Felipe Venga Posso distruggere la strada Che mi hanno fatto davanti Alla kiss Ah sistemala come vuoi Ma cazzo Ma si è un biso Un po' schifo lì Ma il ponte è finito Andiamo a vedere Oh io voglio il ristrutturamento Di strada di scala Si si per favore Sobattelo Pure io ho il ponte Davanti alla tua kiss Perché è così basso Ma ci passa la barca Ma ora che ci penso Ora che avremo le navi enormi Ma passeranno nel fiume Mi sa di no Ci saranno sempre le barchette Aiuto Prima di far pagare le tasse È tutto Devo un attimo fare una cosa Ma che bella casa nostra È una cosa spettacolare E' una cosa spettacolare vero Buonasera 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 Te so Wait Devo andare un attimo No Non puoi andare Ti piace come hai fatto Qui le tozze Tutto bello Tutto bello Ah devo togliermi il ferro Vado a vendere il ferro Un attimo Da Dal tipo Come si chiama Hai capito no Ok Ciao Depresso Va bene Depresso Ah devi scaricare la mod Comunque Depresso Io non so come si scarica Ma non me ne spiegami Ah ti stavo scherzando Ah sono il sempre Come cazzo avrei scaricato Non lo so Sto scherzando Sto scherzando Ah si corre Ah comunque Volevi comprare il ferro E questo Quanto Ma sono 15 pezzi 2 ferri grezzo 2 pepite Ah eccolo Simon Ciao Simon Ciao Ragazzi ho letteralmente 2 pezzi di ferro grezzo 10 pezzi di lingotto di ferro 5 lingotti d'oro 2 pepite d'oro Tutto per 15 di rame No No Troppo Massimo 10 Massimo 10 15 12 14 14 12 12 Va bene 15 No 12 Oh che è sumare Risolto Sono dato Mò Entra giù Uguagliatemi Che mi sono perso Ah un sacco di cose Mi dica Un attimo Devo far diventare Mio fratello Mi ha detto Se potesse diventare Un Ingegnero Ce la fai a parlare? Sì Non mi ha tolto Ma lui Non è un fab Non ha due licenze Oh si Vuole la terza Vuole la terza Costa 200 Ah ok Vabbè Ma scusami Signor Simon Ma non è meglio Che Wolverine Rinuncia alla licenza Da fabbro Tu fai il fabbro Mercante del nether Lui fa Minatore del nether No che Non so cosa sia Minatore del nether E l'ingegnere Non è meglio Eh però io Guarda La tua posizione Non sono quasi mai Alla Ah vabbè Ma ti conviene Prendere ora La licenza All'ingegnere Aspetta un po' Cioè almeno Aspetta la settimana prossima Non è meglio Anche sai il motivo Perché Sì Eh appunto Almeno vedete Quanti sono di guadagnate Questa sessione Va bene Grazie ragazzi È sempre bello Fare a fare Eh se siamo Una ventina Sì Se siamo pochi Non ha senso Un bel server Ti piace Davidino Davidino Dovresti unirti anche tu Al nostro server Comunque Hai messo le mod Poi No no Le mettiamo da venerdì in poi A parte adesso Sarebbe stata una pazzia Solo mettere Perché fai scaricare Tutte le mod Spiegare a singole persone No no Assolutamente no Mi dica Io mi cercavo Che cosa c'è Niente La posa queste a casa Solo la tua Che ho detto Ma Ti ho detto Posa i soldi Tanto sei lì Io devo andare in giro Vado a prendere I nostri stipendi Allora 60 E 30 E il mio stipendio Nati Prende 70 E ho fatto I stipendi nostri Ok Ora dobbiamo pagare Le tasse Tanto scrivo Prende Stipendi Da una red Tasse pagate Qua mi sembra Che hanno pagato Tutto Anche se il nostro Tesoriere Non fa mai un cazzo Tutto il giorno C'è da dire Questo Oh ciao Ben Niente Era per fare Un po' Spaventare Il popolo Mi diverte Allora Io e noi Dobbiamo pagare Terreno Più casa 5 Quindi c'è 20 45 Ci manda 5 60 75 Ok 40 70 60 70 Ora Andiamo a mettere Qua 5 Hai visto Sono bravo 8 8 Ma vai a rubare Ora te la do Aspetta Allora Gli slime Niente Non c'è Niente Ma ci sono Gli slime No Gli slime Di Miele Eh ma Guarda che A breve Serviranno Ora Con le mod Sicuramente Aspetta Un attimo Sicuramente Che ha pagato Le tasse Ti sto Sicuramente Che pure tu Le paghi Perché Lo stipendi Ok A meno Noi siamo A posto Deve avere Di stipendio 70 Giusto No 70 Non lo ricordo Bene Lei deve pagare Di tasse Dov'è il suo libro Andiamo a cercare Il libro Del signorino Oh yeah baby Eccolo qui E' un po' Abitudine Allora la casa Tu sei Antico Dio Quindi è gratis L'attività 25 40 40 Ciao Sora Vieni qua Ti pago Oh Ti pago Ehi Ben Porco Dio Ti togli Sora Per favore Ok Grazie Mille Sora Tieni lo stipendio Anche te Devi pagare le tasse Quindi paga le tasse Eh lo so Aspetta Inizia a prendere questi Prendi 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 Che cazzo hai Perché Ho una casa E l'attività E su 35 Non sai manco Fai i conti Ma su 35 Ah tu prendi 40 Di Stevengers Imbecille Io li so fare i conti Non ho detto Che non li sai fare Vabbè Vabbè Apprezzo Apprezzo La tua matematica Mi piace Mi sono stati 35 Allora E io ti do 5 Vabbè Non è il mio lavoro Questo sinceramente E che Dov'è quello Che dovrebbe farlo Non lo so Cosa può fare Secondo te Signor Geriberto Probabilmente a molestare qualcuno Tenito ora Ciao Sì sei un ottimo Pagliaccio Grazie Chi è un pagliaccio È un canale dei complimenti Canale dei complimenti Questa cosa Andiamo a casa Andiamo a posare i soldi Della mia E mia E della signorina Ok Siamo andando sempre più vecchi Toto Dobbiamo aumentare le tasse Mi sa Troppi soldi Hanno le persone Ragazzi Purtroppo c'è voce C'è voce C'è voce in giro Che Stanno aumentando le tasse Avete sentito Perché stanno aumentando È perché Le persone sono più ricche Di quanto dovrebbero essere No Sto scherzando Non ho mettere un tasse Ragazza Sempre a prendere le cose No C'è player 78 No Infatti non so che sia Non mi ispira tanto Ma questo è di nuovo Ragani No Ma la stessa Signora Canterò Non è lui Mi sa che No mi sa che il ragano Mi ha sbagliato a count Mi gioco le palle Fammi vedere No non c'è Prova 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 Ah Era mutata Sorry Ero io Aspetta Ah eh Vedi che era da qualcuno Del server Siete ricchi Più o meno Davide No Dipende Sì Vabbè Era Per questioni Logiche Ovviamente Poi intanto Ho pagato le cose Più importanti Ho fatto le cose Più importanti Oh yeah Baby Alexia Alexia Vedi Carlo Dimmi Dimmi Ok Che Ma Alexia Non viene Va bene Un singolo Che è stato pubblicato Il primo frio Alexia Ha detto Alexia O no No questo L'avevo chiamato Ma Mi ha detto Che forse Entrava E vado Vabbè In caso Perché mancano Tutti i tuoi contatti Non è proprio Una cosa bella Mi sa Eh lo so Lo so Infatti Molto probabilmente Entra Comunque Io non devo pagare tasse Cioè Il mio stipendio Da marinaio Ah vero Giusto E andiamo a pagare Allora scriviamo Così lei è testimone Di quello che scrive Eh sì Lo so Dico nel senso Scrivo Lei è testimone Di aver fatto Questa Fata A posto Abbiamo fatto E' semplice Facile Lei ha le manie Di lanciarsi Ma che Ha lasciato Questo aperto Mamma mia Questo deve stare Chiuso Io non ci vado Ah non vedo L'ora Non vedo L'ora Di venerdì Questa è una Trappola mortale Esatto E' una Trappola Non sono Scale Quello Non sono Porte Ma che arco storco Ho trovato storco Incantato Una merda Un breaking Eh scusa Michele Eeeh Questo non fa Sti due Che ha combinato Adesso Che ha combinato Che ha combinato Ah ho inciso Un'altra verso Ho inciso Il mio fratello Non è una cosa Bella Si chiama Praticidio Ah beh Devi solo pagare Una molta di 30 monete Se puoi uscire subito Ah Non esco Non esco Cazzo E dammi le monete No no Tu non esci Tu esci Ti pago Cazzo Allora Oh aspetti Vediamo Fammi vedere Che ora è Oh aspetti Tre notti Di minecraft Ah Sì E io ti ammazzo Mi prendo tutto Il diamante tuo Come Allora 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 Tu libera Io ti ammazzo Vai Fallo Dammi la volta Fallo 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 No Non voglio sconderla Oh Allora Non voglio sconderla Non voglio sconderla Mi fai uscire E dammi soldi No no E quali soldi Se non ce li ha dosso E falli prende a polvere Allora non esci Mi fai uscire Mi fai uscire No no Mi fai uscire No no Mi fai uscire Mi fai uscire Mi fai uscire No sai quante volte Ho ucciso Quei Cavolo C'è Vedi Vendetta Fra per i figli Io ti ando Non so Mi fai uscire Kill Oh Mcgung Yes Dammi Du Quai Scri 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 buongiorno signor sindaco buonasera casame mi scusi non c'è il tesoriere immagino buonasera ma non hai trovato il tesoriere? eh? hai pagato le tasse dico ah ok lei la smetti di andare in giro con le donzelle a guardare le donzelle dalle finestre? oggi c'era lavoro da fare e l'ho trovato che stai guardando le donzelle ho fatto tutto io hai scusi eh eh appunto allora signor tesoriere mi ascolti un po' a l'ho trovato sentare da vi fritts oi 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 vedo che il suo business cresce sempre di più eh così così in realtà perché il mio business ha più funzionalità quando c'è una compravendita anche con gli altri commercianti ma se non sono online di un belva ha ragione ha ragione ho notato questa cosa beh comunque penso un po' di soldini li ha guadagnati dai eh pochino perché io poi acquisivo il carbone da infe se non sbaglio quindi avevamo una partnership che gli davo ah ok non mi ricordo anche più cosa gli davo eh ma è passato troppo tempo eh ma il carbone è ormai diventato una risorsa preziosissima nel villaggio sì? sì c'è una carenza assurda di ferro e carbone eh ma senta ma sono disponibile ancora licenza minatore? oh certo ci sono tutte le licenze che vuole ah ne vado a qui oh proprio lei cercavo come sta commentatore ma da quanto tempo? come sta ma è stato bene? se se volevo chiederle l'acquisto di una licenza da minatore ma lei è un tuttofare eh ho bisogno di rifornire questo ma senta aspetti 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 vedi ma si va a fare il minatore nel nether? eh no perché devo acquisire materiali che servono nell'overworld ma figa mi serve un minatore nel nether eh ma quello arriva infe no non arriva un cazzo di nessuno fatto jumper ma è ancora in modalità ah perché non si è entrato più giusto salve voglio pagare per farlo uscire no no non pagare lascio lì dai vieni dai vieni oh così impara a uccidere vedi? semplice la prossima volta che uccide non esce più vai bravo la prossima aumentiamo a 60 allora pagato andiamo dal tuo fratello a liberarla vabbè ah sei libero ah comunque la prossima volta che uccide un'altra persona l'ha molto aumenta a 60 si ma mi raccomando ragazzi non fate dannimi eccetera ok fabbro io ho allora fabbro io volevo parlare un po' con lei lei è un esperto fabbro giusto? io ho trovato dei documenti se vuole le chiamo un attimo ben aspetta ben puoi venire al comune anche Giliberto e Sam aspetta aspetta l'ho mandato al passo ok allora dunque darei abis frizzole allora signora abis frizzole contro un attimo i documenti fatemi controllare allora un'attività da minatore poi dunque lei ha un'attività 7 per 7 quindi mi deve pagare a più 4 25 poi lei ti deve comprare terreno più miniera e la faccio 5 per 5 che è il minimo ma tanto lei può scavare dove cazzo le pare quindi 5 per 5 quindi mi deve dare altri ma ma il 5 per 5 non posso usare il mio negozio come base delle attività no deve fare miniera e negozio separato ok ok quindi 5 per 5 è la miniera quindi mi deve pagare e 20 ok arrivano e poi mi deve dire quanto vuole grande l'attività il minimo 5 per materiali e si può fare business business al comune vieni ai e tu non mi ascolti ha detto vieni al comune tra un paio di minuti con il mio con il miau gente venga 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 che cazzo è aspetta a comune tu che fai mi sembra degli agilberto di aspettare e ti dica aspetta gilberto tu che fai a tu e la signorina aspettate un attimo a comune prendo gli otto che c'è una cosa di importante che dobbiamo parlare subito arriva dov'è tuo fratello a vieni vieni anche tu grazie vieni dai sapete fare c'è fame guarda cosa c'ho guarda ah ehi vuoi essere il giorno vabbè vediamo otto le palle tu e questa tua religione brutta tante con questo cibo ci campi un'ora per le mazzate che ritirate andiamo salve buongiorno 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 allora salve ragazzi volevo parlare con i nostri prima di tutto questo è il mio posto volevo parlare venghi qua signor signor christa puoi venire non ti preoccupare siri ti ho convocato per una riunione importante anche se non c'è signor ben allora il di otto simon è un uomo che sa leggere bene le attrezzature cioè conosce tutte le cose tecniche per quanto riguarda i manufatti eccetera abbiamo trovato qualche giorno fa un manufatto simon ma in quest'area nella nuova isola nella black water scusami l'ha trovato il contadino mentre preparava le sue terre e ci ha dato questo e non so scavando preparando mentre macinava la terra con la sua zappa con la sua grandissima zappa di ferro comprata onestamente comprata onestamente da simon ma chi è me lo di me lo di vabbè comunque che stavo dicendo praticamente abbiamo trovato questo manufatto che parlava una cosa che non ho mai sentito diceva che è una tecnologia vi ricordate quando abbiamo parlato della tecnologia di cento anni fa quella roba tecnologica sui pistoni lo slime abbiamo scoperto grazie trovando questo manufatto che una ventina di anni fa questo regno ciao felipe felipe ascolta anche lei che a lei piace ascoltare storie visto che è sempre qui da noi ok praticamente come stavo dicendo cento anni fa abbiamo scoperto grazie a amrachan amrachan ok no 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 amrachan scusami master tiranno ecco master tiranno che lui veniva da appunto da un regno decaduto che avevano già la tecnologia un po' avanzata rispetto a noi quindi avevano già cose solo che il contadino scavando in questo punto ha trovato un libro di un macchinario proprio di recente cioè praticamente questi qua sono passati in questo questa zona dove abitiamo noi qualche anno fa e questo libro era penso perduto l'hanno perso e volete sapere cosa ho scoperto e questo sicuramente gli arabi ne sanno qualcosa visto che gli arabi hanno il loro la loro ex nazione è una delle più grandi tecnologiche a livello di motori ovviamente per quanto riguarda la tecnologia ovviamente alza anche lui le mani sono molto più bravi il regno di master tiranno lì dove abitava che non mi ricordo sinceramente però tornando a noi il discorso è questo che la cosa mi ha fatto un po' proprio scioccare che cos'è un motore? il motore serve per avviare altre macchine motore ok io l'ho sentito parlare nei libri dell'antichica in Italia aspetta noi avevamo tipo un motore era tipo un motore noi siamo tipo quello a bafforso che faceva partire altre macchine ma come funziona? perché lui è arabo perché sei arabo? che è lui? guarda ti faccio vedere aspetta un attimo guarda ti faccio vedere un attimo aspetta ok ok ci siete? allora, stavo dicendo niente, ho trovato questo libro insieme a quei manufatti antichi che spiega specificamente un po' a cosa serve il motore, tieni signora Simon legga un attimo guardi ah, ah, si noi avevamo un motore che faceva partire si, anche se sei proprio specializzato si, ma leggi leggi signor Cristiano, per favore eh si ricordi quando ah, è vero, si eh si, ma leggi d'alta voce motore, hanno il funzionamento di attivare macchinari e anche veicoli come navi, aerei o trasporti generali quindi, questo motore a cosa serve? cioè cosa fa? che cazzo serve? attiva cosa? noi siamo ignorati no, ma sono delle macchine per esempio sai il contadino? si non solo quello, può creare delle delle cose automatiche cioè il contadino non lavora più la terra e chi lo fa a posto suo? una macchina una macchina una macchina una macchina hai seguito, giriberto? questo motore è meraviglioso allora, ecco, ecco una barba e non è e non è e non è ah, quindi possiamo costruire grandi navi da guerra le navi che vanno da solo che però bisogna eh, vabbè, noi le pilotavamo, no? tipo come era? eh, sì ma non credo le pilotavamo? sì, quelle sì e mi scusi, voi abitate qui da mesi nel nostro villaggio e ora ne ho dite che avete queste tecnologie? ma forse i loro antenati eh eh, ma quando c'era il vecchio calivato una silica rana si sta un po' riprendendo dalla dalla fianca di testa che cazzo sta dicendo? eh? e non so, parla della sua religione strana e lascia stare la religione, sai vabbè, comunque va bene io vi lascio questo libro, signor Simon se trovo altro indizi facciamo una cosa facciamo delle ricerche se è possibile anche tu, signor Filippo che ha detto che nei libri testi che hai trovato in generale antiche civiltanti oh Dio scusatemi ah scusate ehm boh comunque tutti e due cercate delle informazioni ragazzi perché potrebbe essere un cambiamento per il nostro regno e finalmente eliminare la piacca dei pirati e di questi piglin che sono totalmente fastidiosi vabbè le navi potremmo quelle che abbiamo noi potremmo rendere grandi e la cosa divertente potremmo avere una tecnologia migliore dei pirati su questo ora noi non sappiamo loro che tecnologia hanno ma se abbiamo le navi le navi no non c'è spiega ma se ci rubano la nave se ci rubassero delle navi eh quelli sono cazzi eh quelli sono cazzi infatti eh secondo me non bisogna fare le navi cioè dobbiamo farle alcune piccole che si mimitizzano sono tra gli altri beh ma noi non vogliamo allora si infatti gli altri hai detto tu delle altre navi quelle piccole che cazzo sta dicendo vabbè ma in realtà non possono rubare le pirati se non le conosco ma in realtà sono pirati chi dice che loro non hanno delle navi nascoste e ancora non le abbiamo viste noi non sappiamo nulla nella loro isola quindi dobbiamo stare comunque attenti magari loro conoscono questa tecnologia se fosse così però sarebbe la fine effettivamente anche questo è il problema ma anche un'altra cosa signor fabbro allora io lo so che voi arabi avete una grande abilità è quella di lavorare con i ferri oltre la conoscenza dei macchinari sicuramente la vostra conoscenza sui macchinari e le tecnologie rispetto al nostro master tiranno sono un po' più basse ma comunque sono sicuramente migliori delle nostre concentratevi adesso di ricordarvi nella vostra civiltà i nuovi tipi di armature nuovi tipi di armi nuovi tipi di scudi la vostra tecnologia deve essere anche parte del nostro regno ormai siete con noi nel bene e nel male siamo una cosa adesso il vostro regno è decaduto altri regni sono decaduti adesso noi siamo il popolo di Osiris tu non sei sircana tu non sei l'antico dio tu non sei no non ho capito no niente eh ti ho boccato no 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 tu non sei e poi ci ho ripensato io non so una cosa no 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 vabbè vabbè allora mi scusi ok non ci perdiamo in chiacchiere va bene quindi adesso siamo un'unica cosa fabbri sviluppate per favore la tecnologia su nuove tipologie di armi tu signor Felipe cerca di capire questi macchinari tu Christian che rispetto a Simon hai detto che la tua famiglia è un ex famiglia di ingegneri no sei della stessa famiglia ma aspetta ah con i studi ok ok tu hai studiato ingegneria a quanto pare si concentrati sull'ingegneria a scoprire nuovi macchinari appunto automatici vabbè controlla cosa è un motore ok tu invece crea nuovi scudi crea nuovi armi possibili anche da fuoco se è possibile tu signor Felipe è il momento di capire cosa di trovare questi testi e aiutare la tecnologia degli altri a svilupparla però ho sentito che antiche artiglierie erano usate nel Nether però sono tecnologie perdute quindi devo fare le ricerche va bene intanto questo è quello che avevamo da dire per ora intanto poi noi invece per quanto riguarda il comune noi ci aggiorneremo ragazzi con altre cose per parlare della stanza segreta del tesoro e finire il discorso per le mura aspettiamo bene ok per parlare di tutto cosa? cosa che non sono le mie allora sono arabi giusto? lui viene dalla dinastia come me dell'antico dio e tu sei nessuno un contadino vieni da una famiglia di contadini cioè praticamente io sono ricca e tu sei povero capisci ok adesso sei ricca perché Giliberto ah ma Giliberto è quello più anziano effettivamente della dei nostri antenati sì sì infatti Giliberto spero che non muoia lei è un po' vecchio qui non crepare dovrei morire è che ne so è vecchio ma perché signor sindaco non è che sono così vecchio del credito come pensa lei va bene ma io c'ho una quarantina di anni lei ne ha 80 cioè capisci no no 80 80 80 50 stanno scherzando lo so io sono una trentina scherzando vabbè comunque andiamo dai ragazzi buona giornata oh c'è Ben ciao Ben sei preso una delle riunioni più importanti io non ero di Giliberto ma ho avuto proprio che mi ah ok vabbè dopo c'è un'altra riunione quindi tranquillo di ah se vuoi ti ricapitolo vieni con me ti capitolo un po' di cose va bene vieni buon lavoro ragazzi ai fratelli arabi grazie vieni 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 parliamo venga a casa mia perché queste sono informazioni che non possiamo dire in giro quindi veniamo andiamo 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 venga allora adesso spogliati nudo sul mio letto ti faccio del mio pisello ma va sto scherzando allora vieni allora vieni allora vieni allora vieni vieni ok allora vieni senti allora praticamente abbiamo trovato un libro su Blackwater questo è il blog di Blackwater che ha trovato il contadino mentre lavorava la terra è di qualche anno fa praticamente è una tecnologia interessante e ne ho parlato con un po' i fratelli arabi i fratelli arabi hanno detto che anche il loro popolo aveva una sottospecie di questa tecnologia praticamente possiamo costruire macchinari automatici capito? sì e possiamo finalmente costruire armi da fuoco proprio che sparano io non ho mai visto noi abbiamo frecce ma armi che sparano fuoco capisci? mamma mia e poi oltre questo nelle pistole sarebbero molto utili sì ma poi un'altra cosa abbiamo scoperto che con questi motori oltre a creare tipo per esempio una farm automatica di magari c'è il macchinario che lavora la terra oltre quello possiamo usare per le navi per trasportare sono più veloci dei remi beh direi insomma ma è una tecnologia magica capisci? ma bagnarola che abbiamo ora zombie zombie si ma è una tecnologia magica che cazzo succede? sento qualcuno urlare oh andiamo a salvare la signorina venga venga vada 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 aiuto 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 la zombie è normale non metti una torcia si ho visto oh dai eh metti una un attimo qua un attimo metti l'acqua vabbè comunque non è poco illuminato in realtà cioè posso dimettere sopra qui mettila qua e qua oh ecco è più illuminato chissà quando impareremo a usare qualcosa delle torce della luce eh ma vedremo un giorno ma già c'è tipo una cosa migliore delle torce come la casa nostra le luci ma quelle sono grande ah poi c'è anche ci sono anche luci più forti che vengono da netter abbiamo scoperto un'altra tecnologia ah si? si si ma ho le mie manine ma insomma lei capisce ben cioè questo sarebbe un grande grande aspetta aspetta ah vero vero allora mi avrà praticamente ah vabbè facciamo che vabbè comunque ci permette lo sviluppo ma lei lei immagina ma lei sta immaginando una cosa che noi pensavamo che fosse impossibile cioè noi abbiamo questa spadina una picca evoluzione sarebbe proprio per noi insomma certo certo poi non so noi non abbiamo conoscenza effettivamente alla fine noi non conosciamo nulla non conosciamo nemmeno quello che c'è sotto terra i minerali che esistono chi dice che esiste solo il diamante il ferro l'oro noi non sappiamo nulla e questa cosa l'ho pensata anch'io ah sai il punto è molto mare insomma si ma la tecnologia può svilupparsi è la cosa bella sai quale ma la sai il netter ci ha insegnato questo i piglin alla fine oltre ad essere un male è vero però ci hanno insegnato che c'è altro nel mondo c'è tecnologia che noi non che quarzo fino a fino a qualche mese fa per noi non esisteva e guarda adesso abbiamo il negozio che vendiamo quarzo materiali si si da così ma comunque questa informazione deve rimanere molto segreta ovvio si se la venissero a sciapere i pirati però non so a me i pirati sembrano molto tecnologici sinceramente ti ricordi è vero ti ricordi l'ultima volta quando ci hanno attaccato con delle bombe loro hanno hanno fatto saltare qua sulla mia casa non è che magari loro hanno una tecnologia che noi non conosciamo noi non sappiamo manco come si facevano le bombe cioè l'abbiamo scoperto grazie a loro trovando i detriti e studiandoli magari anche loro hanno non è che magari hanno delle navi che funzionano beh non lo so sinceramente questo dovremmo scoprirlo si un giorno lo scopriremo sicuramente però non credo che adesso sia fare una missione di esplorazione contro di loro sia buono anche perché attualmente dall'ultimo attacco non abbiamo avuto comunicazioni con loro né tantomeno altri attacchi credo che magari si sono non è così è è evoluta la loro tecnologia potrebbe essere ciao sarebbero ritornati qui secondo me questo è vero cosa accade abbiamo fatto il cullo l'altra volta vedi magari uno si vendica vende ah raga devo andare un attimo su black water sora tu non devi cacciare slime eccetera non ti mancano materiali i slime no non mi mancano no dico ti mancano animali mostri in generale vabbè più caccio più faccio soldi sì allora se vuoi essendo che io e Ben dobbiamo andare ma smetti di colpire le persone facciamo una cosa io tu e Ben andiamo a black water perché io devo comprare del cibo a me non mi fate compagnia in caso di pericolo ok però aspetta prima ho bisogno di un set in diamanti ok allora tronzo uno lo decito la città no no diamanti eh niente cosa 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 ma Simon perché non vai da già già ecco capito Felipe a comprare cose eh però eh scusa lui deve fare l'armatura sono soldi ma farmi l'armatura no d'oro mai piuttosto mi taglio il cazzo vabbè ma comunque intanto fatemi prendere soldi perché essendo che l'altro contadino è un po' povero vado dall'altro a comprare vabbè io vado a prendere un po' di roba no è un po' povero nel senso che non ha più cibo come prima e quindi ha bisogno di comprare altrove credo che io stia migliorando a fare l'RP come ti è sembrato come ho fatto l'SRP no stavo ascoltando ah peccato in live come vi sembra anzi Martina sicuramente Martina mi ascolta a te che piace queste cose come ti è sembrato ops ma è normale che migliora col tempo finalmente togliamo queste barchette del cazzo porca pottone che nervi andiamo a fare l'abbiamo ok 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 Grazie a tutti. Mi dica. Mi dica, mi dica. Vuole 10 diamanti? Ah, ok, venga. Tanto è un tempo che aspetta due palizziati. Che hai fatto a capelli? Eh, niente, ragazzi. Mi hanno donato altre sabbia, mi sono dovuto fare la pelata. Però meglio, sinceramente era da un po' che me la volevo fare. Volevo un po' togliermi i peccati da dosso. Sono una persona religiosa. Salve. Salve, principessina. Ehi, come va? Ora c'è il cacciatore, signor Sora. Ha riempito un po' il negozio. Ora andiamo su Black Hooter a cacciare. Quindi a breve le metterò altre cose. Va bene? Eh, signora, 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 che credo per le angurie. Per le angurie? Ah, vero, aspetta. Anche io devo formare XP, che ho questo piccolo qua che è quasi rotto. Così posso fare... Sì, si aspetta un attimo... L'oro... Si aspetta un attimo qui... L'oro, l'oro, l'oro. Sì, si aspetta un attimo qui e arriva Caloggio. Vieni, Nati, vieni. Così quando tornate... Quando tornate ve ne do altri. Aspetti, signorina. Venga. Hai visto? Vieni. Ma qui due ore finisce la matata. Lo so, ragazzi. Purtroppo le cose belle hanno una fine. Allora, ho sei diamanti. Sessanta. Tiena. Non ce la faccio fare, l'armatura è solo. Possiamo altri diamanti, altri diamanti. Dani riesce a darmi dieci del cavallo un attimo. Quello è tu, Vitoge, dove scappa? Madonna mia. È sempre a rompere i coglioni. Ma ne ha dato sessantaquattro. Ah, non ce le tasse. Non ce le tasse. Anzi, col mio stipendio, dammi i tasse. Sì, ma io... Ho sbagliato. Aspettate un attimo, sono pazzo, sto impazzendo. Che devo dare? I soldi dei cavalli? Devi dare 5 a me. Per i soldi dei cavalli di mia moglie, vado a dare direttamente da lei. Ah, mamma mia. Spostate un attimo. Questa moglie. Cosa hai detto tu? Che vuoi, Simon? 5 dirame per lo stipendio. Perché si paga pure le tasse. Ah, quindi devo dare solo 5 dirame, giusto. Minchia. Rientri benissimo. Tieni. Mi serve lo stipendio, tu dire? No. E vai una cosa vuol... Cioè, non ora, porca troia. Allora. Gliotta 69. Ha pagato pure le tasse. Tasse pagate pizza panza. Ah, le hai pagate tu? Eh sì, ma... Mi serve entrava quando avevo stipendio. Fammi vedere se è vero. Eh, magari vuole fare furbo, signorina. No, no, sempre. Ma ora non sei più a sdrubale, chi sei? A sdrubale, sempre. Sono risorto come Gesù, grazie. Grazie, antico Dio. Grazie. Allora, grazie, antico Dio. Ah, le corna. Ora, non, ma le mod le dai manuale o curso forge? Curso forge, per chi ha il gioco originale, per i craccati le passo manuali. Farò due zip, vi scriverò ovviamente curso e ci sarà il server. Per chi invece deve fare... Chi ce l'ha ovviamente non originale, gli farò lo zip, ovviamente. Quindi tranquilli, ci sarà tutto, ragazzi. Non vi lasciamo a far casino e scaricare roba. Vi prepariamo tutto noi, facciamo tutto noi. Voi dovete solo installare. Penso che sarete contenti, perché finalmente il server si verrà più interessante. Ho scritto a panza che ho pagato il do stipendio. No, non possono, jumper. Eh, ciao. Porca. Ma dov'è essere stella al comune? Eh, no, perché lei ti voleva dire una cosa. Per l'anguri. Sì. Eh, già io l'ho detto io. Eh, zio, devi produrre. Io sto andando all'altro contadino, perché veramente si è diventato un pessimo quando sono molto deluso dalle tue azioni. Ma non mi serve grano, adesso. No, devo andare di là, però devo per farlo andare, quindi vado a fare un po' di shopping anche per lui, poverino. Come non c'è più scopo. Ah, scusi, vuole essere sparata nelle gambe. Eh, ma io l'ho dato a qualcuno. Ma il signor Luigi qua deve pagare le tasse. È normale. Eh, ma deve pagare i campi. Eh, i campi. La sua, i campi e la sua attività. 30, 55. Io, io già ho pagato la mia. Sì, tu già hai fatto le tue, sì. Allora, pago direttamente le tasse. Sì, paga anche le tasse a 25, segnalina. Allora, una cosa. Qui ti ho portato... Calogero ti ho portato con Stella, vedi? Lei voleva l'anguri. Parla con lei e mettetevi d'accordo. Intanto dammi i miei 55 e tu i 25. Signorina, i soldi? Eh, ecco, li stavo dividendo. Li stavo dividendo per questo. Eh, signorina, le tasse si pagano velocemente. La vita è veloce, non è breve. No, no, ma... Non dobbiamo riprendere i soldi. Poi, vabbè, casomai jumper mi aiuti su questa cosa. Non se la prenda con la signorina, su. Ah, su, sto scherzando, signorina. Sta scherzando. Guarda qui. Guarda, signor Giliberto, vengi a vedere, vengi a vedere. Guarda cosa abbiamo. Guarda cosa abbiamo un po' comprato dalla strega. Ma qua? Usti, quanto grande. Ecco, quelle saranno le nostre riserve in casa d'emergenza. Ok, bene, bene. Queste infatti saranno le... Roba sequestrata, sta scritto. Ma che roba sequestrata? Io ne ho due in più gentilmente concesse dalla firma. Aspetto. Come si dice quando è una cosa... Riserve, riserve nazionali. Perfetto. Dove è? Dove è il signor Calogero? Era venuto con... Ah, no, no, c'è mia moglie. Fate i bravi, comportatevi bene, sedetevi. Sì, è il titolatore dei regali. Ok. È il dettore. Hai visto? Io vado un attimo a mettere questo nel... Aspetta, raga, muto un attimo il microfono e devo dire una cosa in line. Jumper, ma tu ne capisci un po' di installare le mod sul server? Perché Ale poi mi sistema una cosa, ma tu mi dai... Mi servi tu per dare la mano perché Ale non c'è. È in Giappone per un mese. Aspettati, ok? Eccomi, dammi i soldi delle tasse. Aspetta, prima Calogero... Raga, però infila gentilmente. Non si può vedere che un popolo di Osiris sia così ignorante, scemo? Calogero, tu sei il primo. Dove cazzo vai? Dove l'è? E se voi me le buttate addosso? Ok, ora posso uscire. Vai via, ok. Vai via, l'entra intanto, poi pagare. Aspettati, in caso iscrivetevi, mi ha perso di studiare. Allora, aspetti Calogero, signorina. Ok, dov'è? Allora, mi devi i soldi. Ma tu sei dell'antico Dio? Ok, quindi ho che non paghi la tasse. Un attimo solo che il signor Calogero si è dimenticato i soldi. Eccolo qui. Mi dia i soldi, un attimo. Sono ai campi e la sua attività. 25. Perché? Ma devi vedere se i fedeli sono il numero giusto. Aspetta un attimo. Ora controllo un attimo il documento, aspetta. Cosa mi sto perdendo qui? Allora, regioni fondate. Andiamo sulla regione circana. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Quindi lei mi deve 25 e 40. Bravissimo. Perfetto, ora, signorina, parla con Calogero per le angurie. Possiamo andare sola? Va bene. Qualsiasi cosa, ragazzi, io non sono a villaggio, parlate con il tesoriere. Quanto costa? Perché non c'è il villaggio, dove c'è? Dobbiamo partire per una missione... Eh, aspetta, fammi un baule. Aspetta, aspetta, vale. Almeno vedo se riesco a farmi l'armatura... Vai, vai. Cioè, almeno di ferro, giusto. Vai, dimmi. Vieni, fai un baule prima che te ne vai. Basta. Aspetta, vieni. Lo devo pagare? Dico, va bene. In caso prendi tanto i soldi sui nostri è uguale, cioè. Se non ci sono io, te lo fai da solo. Cioè, te lo prendi qua. Tieni. Ecco qui. Grazie. Prego. Ok. Ma ho venduto qualcosa nella mia attività? Eh sì, 45 c'ho. I soldi. Wow, che attacco forte. Cosa? Vieni qua, vieni qua. Eh, sindaco, la nasce del Pisa. Hai visto? Ha rifornito carbone, eh, se serve. Ah sì? C'è carbone? Eh, ma guarda, apri i fizzole. Le do un consiglio. Di... Scriverlo in chat. Ah, ci sta. Eh sì, sì, perché se no nessuno lo sa che è ritornato il carbone. Sì, sì, ho preso la cenza apposta per andare a prenderlo. Dai, sii un po' gentile, dai. Un po' a 20 mettilo, dai, carbone. È troppo? Eh sì, perché solitamente uno stack lo fanno pagare 20 per questo. Un pochino, dai, almeno. Se no, poverini... Ah, 22, 22 per... Uno stack è 20, che è 64. Allora, madonna. Eh sì, abbe, ma i minatori è normale. Loro lo formano come niente. Va bene, dai, intanto... Ma quindi lei è diventata adesso anche minatore? Eh, quando vuoi fare, sì. Dove apre poi l'attività? Qui, zona? Eh, non ho ancora capito, perché mi ha detto... Gabri... Cioè, mi ha detto che devo aprire una miniera, Però posso farlo... Posso minare dove voglio. E non ho ben capito questa funzione. Ah, allora ti spiego un po', meglio io. Ti faccio un esempio. Allora, prima di tutto le miniere non possono essere nelle zone di città, perché è tipo un'industria, ok? Lei basta che mette 5 cartelli in una zona, una grotta che le è interessata, ok? Entra nella grotta, e nella grotta puoi scavare tutto dove vuoi e come vuoi. Non c'è un limite. L'importante è che l'entrata ci sia l'autominiera. All'esterno, perché tu stai dichiarando che quella terra... Quella terra è tua, ok. Poi, per l'attività, in realtà, non c'è bisogno che costruisci un'altra attività. Potresti vendere tutto anche in questa attività, però paghi due volte la tassa. Cioè, paghi 25 più 25, perché tu stai vendendo due tipi di prodotti. Ok, ok. Ok. Basta chiederlo al tesoriere, che vuoi un'unica attività per due. Lui lo scrive nel foglio. Eh, allora poi io lo vado a dire. Sì, ti conviene, perché sennò dopo ti succedono casini con le multe, escono multe. No, però sbatti micigliali, cioè. Dai, io devo partire per il nuovo villaggio, che abbiamo fondato un nuovo villaggio e ci sono abitanti lì. Non c'è la roba lì, non mi penso. Eh sì, interessante. Dai. Magari poi apriva una filiale. Eh, ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Le auguro una buona serata. Vado in viaggio. Bene, bene, bene. Allora... Protezione 4, qui c'è. Mi dice quante le vuole e non glielo metto direttamente... Dove è? Dove è bene? Nadia sta partendo con me, signor Ben. Dove sono i poliziotti? Dove? I poliziotti. Sono tre libri diversi. Vabbè, noi facciamo a cercare andare. Però non so quali funziona. Ah, tu sei... Sì, andiamo. Sì, sì, sì. Vero, mi ero dimenticata. Andiamo noi. Di qua, di qua. Dove vai? Di qua. Non andare dal lato dei pirati. Hai in bocca al loro. A sinistra c'è l'isola dei pirati. È lontana, eh. Però non andare mai di là. dai. Sta per finire la maratona, Daniel. Due ore e dieci minuti. Dai, due ore e dieci minuti. È stata una delle maratone più... È stata una delle maratone più lunghe e anche divertente. Però so che potevo dare di più se fossi stata a Napoli. Non so. Non so. Grazie. Grazie. Sì, è vero, potremmo affondare. Sì, sì, è quella la nostra costa. Sì, è vero, potremmo affondare. Sì, è vero, potremmo affondare. Sì, è vero, potremmo affondare le tasse. Grazie, signorina. Non è dentro la camera, non so dove è. Non ti ha fatto due libri per tre spacche? Tre, vabbè, andiamo in una spacche. Ehm, boh, io mi ricordavo che avevo detto tre spacche, però... Ehm, hai spinto un po' nella foresta, adesso dobbiamo un po' andarla a salvare. Non so dove sia. Ehm, ha detto che ha trovato un villaggio, mi ricordo. Ehm, è andato a Blackwater. Ehm, è andato a Blackwater. Quanti giocatori posso vedere precisamente se non è server? Siamo a 18. E dice anche le teste. Certo. 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 Le ho porto perché la prossima volta che viaggi senza dire nulla, senza protezione, la montiamo, eh? Diceva la zucca. Lei non può mettere il rischio alla sua vita per cercare la zucca. Puoi chiederla ai cacciatori, paga i cacciatori e te la cercano, signorina. Ma fa cosa? Puoi chiedere, fare la richiesta ai cacciatori, adesso arriva il cacciatore. No. Chiedigli se ti ricerca. Lo paghi e lui ti ritrova la cosa. Quanto costa secondo te? Eh, ma quando viene parliamo. Comunque viene a pagare le tasse. Ogni sessione si paga. Mi scusi, come pensi che il comune funzioni? Ma come che palla? Mi scusi. Si lamenta anche? Le diamo una casa, le diamo una terra. Sono 25 qua. 25, 35, 40, 50 giustinette. Ok. Bravissimo. Hai pagato anche le tasse. Ma tanto i soldi li hai guadagnati, siamo venuti a shoppare da te. Hai degli ottimi prezzi, siamo venuti qui per te. E vuol dire che sono arrivando di là. Quando si fai in questo caso, abbiamo messo campana di istante diverse, così che tutta la città possa sentire. Allora. Si arrivano un altro di questa. Ok, mi sto fornendo un po' di cibo per lungo andare. Cosa? Ma secondo me ti conviene vendere sempre grano e patate. Le carote coltivano ma non troppe perché tanto le uso solo in macellaio. E si hai fatto bene, non ti conviene farne troppe perché è la cosa che va di più al grano e le patate. Ma i rapanelli non so, i rapanelli secondo te vende. Secondo me no. Poi che altro l'anguria e la zucca pure sono utili. E ora viene il cacciatore, aspetta. Hai visto? Tutto sistemato. Ma che, dov'è il tuo grande costruttore ingegnere? Eh, no, non viene sicuro. Ma fa buff invece? Ma è sparito. Strano. No, ma non c'è online. Bene, dai, a posto. C'è un metà carote e un metà ramanelli. Ma voi avete comprato? No. E non abbiamo soldi. Ah, ecco. Ma li abbiamo portati. Ma vediamo solo dove. Sta arrivando, sta arrivando. Nati. Uh, Nati, guarda. Che tu non l'hai visto. Guarda quella tattaruga. Sono piccoline, guarda. Oh, amore miei. Che bellini. Lo sai? Lo sai vero? Per fare quella roba le devi uccidere poi. No. Eh. Ma non le piccole, le grandi. Ma quante sono? Ma sono poche. Ma sono poche, sono. Cosa? Sono poche, sono morte. Eh, sono. Per iniziare a fare sì. Se ne servono di più. No. Hai visto? Ma sono 8 ieri. Ah, no. Sono di più, sì. Ah. Dicono che sono poche per iniziare a farmare. Ah, non le servono di più. Ah, non le servono di più. Eh, non le servono di più. Che cazzo hai fatto? Hai sprecato la guanda? Bravissimo. Quasi si fa. Dove sono i nostri compagnieri? Adesso. Eccole. Ragazzi, c'è una cosa che si chiama porto, tipo. Ah, ma vero, tu non vieni da un po' qua, guarda. Eh, vabbè. Guarda, vieni a vedere com'è cambiato il villaggio, vieni. È diventato proprio un villaggio questo. Ci sono persone, i player, che giocano qui. Che bello. Questi sono di Nati. E come fanno senza delle guardie? Scusate. Qua c'è Nati. No, i pirati non... Ma che volta vado via qualche cosa? No, no, a parte i pirati, i mostri. Come fanno? Ah, no. Abbiamo fatto... Grazie a Nati. Che lei ministra infrastrutture ci ha detto di bonificare. I mostri sono diminuiti. No, no. Eccolo. Eccolo Sora. Sora ti cercava. Chi? Il contadino ti ha voluto fare una richiesta? Contadino? Eccomi. Per cercare una zucca, quando mi chiedi? Una zucca? Ma... Vabbè... Dipende da quanto dura il viaggio. Ma... Cioè... Vabbè, diciamo venditi di rame, dai. No, c'è. Può vendire un altro. La zucca si vende. No, c'è. La zucca? La zucca si vende, ragazzi. A che serve? No. Cioè, non serve a niente. Serve solo a fare... La marcia e testa. Che serve la zucca, infatti? No, non credo. Ci sono anche i semi di zucca. Puoi coltivarla? Posso vedere che non si possa mangiare? No, no. No, non è... Non lo so. Sincero... Ma perché la zucca? Voglio fare i biscotti. Ah, allora sì. Se puoi fare i biscotti. Biscotti con l'acqua. E uno dice... Infatti io dovrò messo i biscotti. E' una schiazzata. E' una schiazzata. Poi fare i biscotti. Poi fare i biscotti, dai. No, perché i biscotti te la do a 10 se ne trovo... Va bene. Va bene. Va bene. Va bene, Sora. Un'altra cosa. Vieni a vedere. Queste sono le case popolari. Sempre i dei adinati, eh. La ministra infrastruttura ha fatto così le case popolari per chi si trasferisce nel villaggio. Ah. Bello, vero? Loro praticamente pagano la tassa come la casa. Però le hanno già costruite. L'ha costruite comune. Ok. Queste sono le varie attività. Questa è del costruttore. Quella è del contadino. Quella è del minatore lì con i cartelli. Questo invece è il mercato libero. Che noi abbiamo comprato. Vedi? Melle. Sendo che non ne so. Qua ora. Prendi ore. Prendi ore. Le ho prese tutte. Le ho prese tutte. Le ho prese tutte. E invece è Blackwater. Vedete? Dammi le melle. Dammi le melle. Dammi le melle. Questa... Io vado a cacciare i slime nel frattempo. Carlo vieni con me. Sì, oltre a cacciare i slime ricordati della zucca però. Eh sì. Girando. Spero di trovarne. Vieni Carlo. Allora andiamo. Allora, Simon. Io ho finito di fare le mie cose. Che facciamo? Possiamo anche stare qua, eh. In realtà. Io devo tornare. Aspettiamolo. Eh, io ho andato qua a visitare il villaggio. Vabbè, io direi di andare dai. È a Blackwater. Io devo ritornare ragazzi. Sì, devo solo comprare cibo per tutti. Per la mia moglie e me. Eh sì. Andiamo via. C'è una tempesta. C'è tanto buio. Vai, vai, vai. Dove? Andiamo con il padre. Vai, vai. Eh, non so quando torno. Quindi... Attenzione, attenzione. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta che non ti santo. Ma tuo fratello non c'è più sulla barca. Espetta. Oh, è finita la pioggia. Che l'antico Dio, vedi, l'antico Dio ha fatto smettere di piovere. Ma meglio Perché sai se ci catturano Siamo nella merda Quindi alza il culo Un'ota, un'arma Ma chi è scemo Capito quanto ci chiedono Per la mia testa Tu alza il culo Corri come un pazzo sempre Mi dice che non posso Quale Ah perché la cassa è anche tua Ma quale casa Quella mia E vengo un attimo sto arrivando Se mi dà il tempo Non c'è quanto è lunga la strada All'andata sembra più breve All'età ne è sempre ansiosa Siamo quasi arrivati A me sembra più lungo L'andare che il ritorno Abbiamo con noi La guardia Non ti preoccupare È forte il signorino Qui vicino a noi C'è un pirato Corri, corri, corri Ah no è uno zombie Dio a cassa Mi sono cagato in mano Cazzo ci vanno zombie lì dentro Io andrei là Sì E prendere l'avamposto Eh sì L'avamposto più inutile della terra Che letteralmente è vicino a casa nascita Cazzo Che era quel suono Daniele sentite anche tu quel suono forte Eccolo Di nuovo Ma chi è? Aiuto al volo Aiuto Ma porca puttana Ma che è d'acciaio Eh ma che cazzo era? A chi devo andare? Qual è la cassa? Dimmi Eh tieni Guarda Qui c'è il tuo cartello Non mi fa aggiungere la cassa Edri che c'è Io non ho fatto niente qui Dammi il cartello Non mi ha messo sto cartello Ok Ciao Ciao Tutto bene? Sì Sì Aspetta Volevo usare le tasse Sono andato a riscattare le tasse a Blackwater Eh da prova sindaco Faccio anche pagare le tasse all'imica Sono scemo Sono 50 monete di rame Allora andiamo a controllare il libro Prendi L'ultimo che ho pagato è Baby Ale Allora io con i miei soldi personali ho comprato un po' di cibro Ma devo un attimo costruire delle cose nuove con i libri Quindi vado a svuotarti l'avventario E' che è verbo da anni Mi parecchio non svolta Eh Hoi 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 Ho 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 Andiamo a svuotare il negozio di Baby Ale Ti devo portare la roba immagino Eh no gli devo chiedere se riesci a coltivare i conigli Ah da allevare i conigli Ah bene Ci potrebbe stare Sicuramente lo farà Vai Salve Mi costa un sacco A livello anche di Allora vada però Allora mi piace Dai ci scherzo Oh devo donarti una cosa Eh fai così Benvenuti benvenuti Grazie Grazie per lo shopping Grazie per lo shopping Ah poi l'oro Non venderlo meno di tre Ok Oh Oh Sobito veloce Perfetto Grazie Ciro Non stai dove trovarmi Ok Ciao Ciao signor Gilberto Ciao signora Pifrizza Ah così niente Ti piace questo attacco? Si chiama l'attacco della patata Ho due Bellissimo Mi sta allenando Mi sta vendendo qualcosina Ma solo quando fai i materiali Eh ma è normale Se non hai niente come vendi Eh no più che altro Eh no vabbè Qualcosa c'ho Adesso sentri guarda Qualcosa c'ho Il problema è che Non quello che vogliono la gente Eh ma la verga di blaze È quella che più venderai tantissimo Eh lo so Quella venderai veramente Un macello Adesso ho sentito Papi Frizzole E lui essendo esploratore E lui essendo Scusa minatore Gli ho chiesto se può andare Magari niente Da rapiglia Qualcosa Ma è un minatore normale lui Sì lo so Però senti Fammi fare uno strap Per stavolta Ma perché non hai minatori? Ah vero Pansi si è ritirata E non ho né minatori Né esploratori Ma l'esploratore Dov'è? Ah non si è connesso Ma secondo me Ma secondo me Secondo me Quei ragazzi Non verrà più Eh anche secondo me Ma è un problema Che io non ho proprio niente Era un po' confuso Di quello che faceva Devi farmi uno strappo E gli chiedo Ogni tanto ad api Se mi vado nel nè A rapigliarmi qualcosa Eh Per forza C'è obbligato Porta avanti Scusate ragazzi Un attimo Vado craftando Che così faccio La mia attività anche Mi servono un po' Di librerie Totò Ciao bugger È ancora qui Un bel squadro 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 Eh ma i quadri Sono sempre belli Eh sì Aspetta Devo fare il pp Dove cazzo è il quadro? Ah sa bene un bastone Oh yeah Che cazzo Mi sarebbe Aspetta Ha sempre mazza Allora devo un po' Capire qua Tronco di quercia oscura Tronco Tronco Devo togliermi Ste palle Qui Potiamo abbiendere Che c'ho questa Sto la regalare Alla signorina Allora Fammi dividere Materiali Qua ci metterò Tutti i cubi Qua ci metterò Tutte le utensili Ok Così siamo Un po' più ordinati Così capisco anche Quanto legno mi manca È un bel po' Devo rifornirmi Un po' di legno Così ho il negozio Sempre pieno E siamo posti Così quando c'ho I venti lunghi Tanto porto Un regalo Alla signorina Buonasera Hello Signorina Ho un regalo Per te Una bottiglia di acqua Che non so che sparmere Grazie Prego Alla signorina Allora Si fa lo shopping Col busivo Eh questo serve È un sistema di difesa Che abbiamo fatto Dal porta se senti suonare le campane Uno deve fare copy Si serve per avvisare Ciao signor Sdrubaletic Ah ecco cercava lei Può coltivare i conigli Alle mare Eh vabbè coltivare Sì vabbè buongiorno Eh il problema è di trovarli Si lo puoi fare ma li devo trovare Ah si perché ancora non abbiamo trovato Il bioma del deserto Mi dica signor Rakan che c'è Sì Ah come mai è qui Eh perché si sta rompendo il cazzo Scusa non è normale Nel suo villaggio c'era gente No 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 Sono andati tutti via Ah sono andati tutti via Ma solo non le sta cercando la zucca Appunto la sta cercando Ah No ma solo E se la trova Ah ok ok Vabbè ma si puoi venire qua Se hai finito il tuo lavoro Non è che lo posso lasciare tanto tempo Perché subito cresce il grano Vabbè ma sti cazzo Non è che Se per un qualche minuto non pede niente muore Vuoi esplorare un po' Vuoi vedere un po' Ah vuoi vedere Se vuoi ti mostro il villaggio Vuoi vedere il villaggio La capitale Ok vieni con me che devo fare un attimo shopping E poi ti voto in giro Ciao ciao Ti servo io No no E tu hai detto Mi serve Ok va bene Era per lui Ah ok ok Facciamo una passeggiata Perché giustamente non l'hai visto Rispetto a Master Tirano Che ha lavorato qui Allora questa è la nostra area più ricca Cioè nel senso che qui è dove Ma dove vai Mi scuso ma che fai Entra nelle case d'altrui Ma non c'è il cartello La casa può volare Oh vieni di qua Ma a parte mi segui Di qua vieni Allora che stavo dicendo Eh qua si compra il legno Sono venuto per quello Ha finito Ah finito Quattro Cinco Sei Sette Otto Finito Oh che bello Ah hai visto è figo vero Ah possiamo uscire Ha fatto un po' di shopping Comunque questa è l'attività del boscaglielo Qui vende il legno Ah galipina Bella una fatta Eh il costruttore l'ha fatta Uno dei costruttori di questo villaggio Poi Guarda le faccio fare un giro di qua Che è più facile Ma quando posso Ti puoi fare una cosa di genere? Eh dipende da quando ti cerchi il costruttore Devi chiedere per esempio Tu hai la fortuna che il tuo costruttore È un amico Real life Magari ti fa uno scontino Quanto spazio è questo? Questo è letteralmente Se contiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Per Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici È un dodici Per tredici Eh ci sono un sacco di strutture Bene Vieni di qua Ti faccio vedere tutto il villaggio con calma Vieni Partiamo da qui Qui diciamo è la parte finale Dove si trova quest'area Questo è l'ottimo edificio Che è in fase di costruzione Se vedi Questa è la casa del Questa è la casa del cartiere Che sta costruendo Vedi C'è il pesce Sta facendo anche l'acquario Sta sistemando un po' di cose Però è ancora incompleta Il costruttore sta finendo Qua è bello Eh sì È un esercizio Hai visto Poi venite qua Vieni Questo si chiama Fiocco Il gatto del cartiere Vedi Ah La barrietta Giusto Sì Pensa che prima Il nostro villaggio qui Era come un villaggio da te Poi è diventato così Pian piano Poi questo è il cacciatore Qua viene tutti i prodotti Per esempio Della caccia Ci abbiamo Ah già visto Ok Puoi venire Questo invece è il cartiere Qui si troverà in tutti gli elementi Materiali che quasi nessuno lavora Per esempio il mattone Il vetro I coloranti La neve E in più c'ha La cosa più principale Che è tutto quello di carte I quaderni E i libri Hai visto è carino Questo è il suo negozio Non molto Non molto brutto Cioè è bello Sì è molto bello Poi di qua Questo abbiamo visto Il boscaiono Di qua invece Conviene spendere un po' Meno diventa più bello Sì Sì a voglia Questo è invece il negozio dei minatori Qui vendono tutti i minerali Ma c'è baffo qui Oddio Chi è questo Napoli Ci sono tutti i materiali Ferrocrezi Eccetera Questo vabbè Ma questo solitamente Li comprano i minatori E i fabbri Poi ti faccio vedere Di qua Facciamo il getro C'è tutto lo storico E ti porto poi alla periferia Che è un po' più lunga la cosa Questo invece è l'emporio del benessere Vende un po' tutto È un cacciatore minatore Ok Poi di qua Vieni ti faccio vedere Che stai facendo No apri le casse Ma come hai fatto ad aprire questa casa Ah sopra Sopra Ah Si è dimenticato di mettere qualcosa Vabbè comunque di qua Non ho preso niente Era giù Questa è la casa del tesoriere E ammiraglio È della signorina stella Che vive piano di sopra Perché povera Si è presa un piano sopra Vedi Qua vive la signorina Questa è la sua roba Vieni intanto Ti faccio vedere altro In realtà non potremmo entrare qui però Facciamo finta di niente Eh Devi lasciarti andare Le stavo mostrando tutto il villaggio Allora Vieni di qua Questo è invece il contadino L'altro La sua attività Vedi E lui vende Ha prezzi vedi diversi da te Io ti Se fossi in te farei una foto E così almeno Sai i prezzi Che vende qui lui Ti fai un'idea No Sto sotto di tutto Ok Sto tutto sotto Meglio per te Perché effettivamente Stiamo venendo da te A comprare Come ha fatto a fare la carota d'oro La carota d'oro Eccolo Se vuoi l'oro è nel mio negozio Vieni Eh ma di qua Ma di qua ha senso farlo Eh la carota d'oro e la melo d'oro Sono forti per boostare la vita E la potenza Mi parli Diceva che adesso si metteva a fare il melone Vieni 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 intanto No no ma aspetta Facci se vuoi l'istante Puoi vendere l'oro Ah ok Allora vieni di qua Qua è Ah beh Gli facevo semplicemente vedere dove è Ah beh ma ancora dopo devo fare il giro Allora qui Questa è la chiesa dell'antico dio La nostra fede Tu ovviamente sei ateo Poi però puoi scegliere di Cambiare fede È arrivata la religione da noi Ma ancora non c'è da voi sì Questo è dove Ieri abbiamo fatto il funerale Se ti ricordi Ma ieri c'era Ah no ieri c'era un master tirano E' venuto al funerale di Asdrubale Tu non c'eri Eh sì abbiamo fatto un funerale per lui Poi vieni Infatti c'è la tomba dietro Se vuoi vedere Vieni No di qua vieni Qua c'è la libreria antica Ma è un posto enorme Ci sperdiamo Ci perdiamo mezz'ora Eh fidati ci perdiamo veramente mezz'ora Allora uno chiude E uno apre Bello mi piace Qua c'è la tomba Del signore morto Ma intanto veniamo a fare una preghiera per lui Apri che non voglio più No no È morto poi ha fatto Ecco Faccio anima su Asdrubale Abbiamo acceso anche le candeline Faccio anima su Asdrubale E lui è invece il cugino di Asdrubale Asdrubale 2.0 Allora due cose Ha detto Carlo che gli servirebbe della carne E deve pagare il comune E poi stiamo pensando Di far diventare la carne Un poliziotto È possibile E se lui vuole farlo Non c'è dipende da lui Eh io ho chiesto Posso esplorare un po' Se fa qualcosa Non so Bene Vole vedere la città Vuole lasciare in pace a sto povero Cristo Eh beh però mi ha detto Vabbè io volevo avvisare Non mi dà neanche i soldi Vieni Non mi dà neanche i soldi Ma chi ti sei? Ma quali i soldi? È sto cazzo di giallo È comune Mi devi dare la carne Qua è stato di dare la carne Quale carne? Beh te la metto in attrazione però Ah Ben ha preso la carne Eh sì sì Eh dopo pochino Dopo aspetta Sono andato in giro a sto Cristiano Vabbè va bene Vabbè 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 Questa è la mia casa Guarda com'è bellina Guarda stile medioevo Mi piace Quella è la casa Qua qua dobbiamo Vieni Questa è la casa Del signor Ben Il capo poliziotto Se Vieni di qua Vieni ti facciamo vedere Una cosa che voi non avete Di là giustamente Perché Non ci sono tutte le cose Guarda qui Questo è il macellaio Che è Panzer appunto Sono tutti i suoi animali E lì è la stalla Dei cavalli Vedi Questa è la stalla Eh sa chi ne sa Dovevo pensare Questi sono tutti i suoi animali Ora siamo scesi dall'altro lato Ti faccio fare il giro continuo Questo è il suo negozio Qua vende la carne Tutte le cose che ci serve Queste ovviamente sono Queste attività Di Jumpiz Quella è la casa Di Asdrubale Questa è la casa Di un altro Queste sono varie casette Vedi? Il cavallo E' uno che non viene più Se vieni di qua Ti faccio di un'altra cosa Di qua siamo dove siamo A partenza di prima Se vedi E questo è il centro storico Di Osiris Questo è il negozio Di la costruttrice Questo è il negozio Del Nether Che produce anche Oh No, non ti buttare Nella Oh, ha droppato il lingotto Che culo Questo, vabbè Ti faccio vedere un po' Questa è Un'altra attività Del nostro Appunto Di Gabri Qua vende oro Eccetera Serve per fare Appunto le mele d'oro Eccetera Le carote Eccetera 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 Lui è dell'altro villaggio Quindi sta Questa è la La prigione Dove finiscono I criminali Quella è la mia attività Ho un'attività Anche io E' il falegname E' la cosa più bella Della città E' la nostra casa E' vero La casa giapponese Ma che vuoi andare In prigione? Eh sì Qua c'è la prigione Se poi la butto Qua dentro Non la faccio più uscire Va bene Ti faccio vedere Il resto Bene Questa è la mia casa Guarda Sì c'è una riunione Ma se puoi andare da me vai Ma è importante Bella vera La mia casa Sì Posso vedere No No ti puoi anche mancare Ma non la puoi fare Tipo ora Così Ora la facciamo Bella vera Cosa c'è Lo faccio lì Hai fatto Messo da te Allora vieni Ti faccio vedere Un'altra cosa magica Da quest'altra L'altra del centro storico Abbiamo altre cose Questa è la stazione Di palizia Questa è un'altra attività E' bellissima Hai visto? Qua sopra E' dove facciamo Gli interrogatori E' le persone Che hanno buildato Il server Che hanno fatto La prigione Il comune E la caserma polizia L'abbiamo fatto In modalità creativa Se no Era impossibile Preparare queste cose Poi c'è Ovviamente Qua il porto militare Dove sei? Ha degli arabi E' un'attività Ci sono i fratelli arabi Loro fanno il RP degli arabi Sono un altro popolo Che vive in questa città però Lì c'è il porto Di Osiris Dove Arriviamo con le navi Veniamo da voi Questa è il fabbro L'attività del fabbro Però è chiuso Perché non ci sono Qua dietro ci sono Altre attività Come vedi Di qua scusami Questo è l'apicoltore Si occupa del miele E delle api Vedi? Poi c'è Questa è un'altra attività Solo che la persona non c'è Questa è un'altra attività Che ancora non ho costruito L'edificio E lì c'è un'altra attività Vedi? Questa è l'ultima attività Di quest'area Si vede Che è la strega Le presento la strega Ciao signorina Ciao Questa è la strega Guarda Vedi? Tutto al buio Fa le pozioni Vedi? Facciamo casino E la strega ci ha uccide Gli occhi di ragno Ah sì Volentieri Vedi? Già hai fatto un cliente Poi Ne faccio vedere Ora la periferia Manca solo quella Venghi venghi La strada è bella lunga Pensa tutto questo Non è che l'abbiamo fatto In modalità creativa È solo tre cose Abbiamo fatto Uno Due Cioè tre quattro edifici Tutto il resto È tutto opera dei player La chiesa La chiesa L'abbiamo dovuto Farle in modalità creativa Se no Come facevamo? Abbiamo smantito tutto Bene di qua Ora andiamo Nella periferia Dove vivono I cittadini Più sporchi Trattiamo come Maialini Praticamente Se la gente È un po' zingare Ecco Mettiamo Sì Sì Praticamente Allora Qua dovrebbe iniziare A breve la periferia Infatti guarda gli edifici Che merda Questa è Una casa guarda Senza tetto Tutto scassato Eh sono zingare Lascia stare Vedete Orribile questa roba Venghi di qua È il pere degli zingare Sì Non è finito Ci sono altre zone Questa è Invece L'attività del boscaiolo Qui ci sono tutti i suoi alberi Ha una produzione enorme di alberi Ha una terra abbastanza grande E in più Vediamo Lì c'è la casa del signor Felipe Un cileno che infatti Cileno Vive qui Questi sono i fratelli siciliani Altri zingari Altri zingari appunto Sono tutti africani Sud americani Capisci Un po' E qui Sono i campi Questi sono i campi del contadino Vedi? Ovviamente gliel'ha fatto un costruttore Assolutamente Oddio Che bello Eh potresti anche farlo tu un giorno Tanto tu sei all'inizio Quindi è normale avere terra e fango Anche lui aveva terra e fango Tu era terra e merda Sì era proprio Come l'avevi tu Uguale letteralmente Poi si è fatto fare con i soldi Quando ha fatto i soldi Si è fatto fare la cosa figa Tanto è solo questione di tempo Ma che fai? Eh no no Ecco che ho ancora l'autosalto E spero Che fai? Ancora l'autosalto Ah beh Comunque Niente Da qui finisce il villaggio Eh sì Il nostro obiettivo è rendere Il nostro obiettivo è rendere Blackwater così E ci riusciremo Blackwater dovrà diventare così eh Pian piano Mi vedete che anche voi Diventate più tecnologici Anche perché I cacciatori Prima di tutto I cacciatori li trovate sempre da voi Perché lì c'è Il low spawn di slime E lì vengono a cacciare i mostri Apposito Poi c'è la pescatrice Che ora quando Avrà le tattarucche ben formate Verrà spesso a prenderle Noi veniamo comunque a riscattare le tasse Veniamo a fare i controlli Vengono i marinai Quindi la compagnia ce la vedete sempre Solo che ovviamente sei solo tu Ora non ci sono gli altri due Ti è ovvio che ti rompe il cazzo Cioè ti senti un po' triste Su Pensa Eh il cesso Eh i zingari È l'attività del fabbro Ma è un fabbro zingaro È sudamericano anche lui Sai i classi che Ah vero Non ti ho fatto vedere questo Questo invece è il mercatino di Osiris Qui facciamo Quando c'è un po' di gente Facciamo il mercatino E gli cani No andiamo Ovviamente al centro Qua c'è l'acquaria L'ho fatto io L'ho fatto io Questo acquario piccolino Vedi ci sono i pesci tropicali Questo anche ho fatto io Questo l'ho fatto da solo Anche così Sì E qua ovviamente Questa è la mia attività Il mio Io sono un falegname Ok ok Prendi pure tu in su Sì io produco Oggetti praticamente Tutto ciò che riguarda Letti Leggio Quadri Tutte cose che riguardano Strutture di file Legnaveria Ecco Aspetta Spazzo a terra Ok E' un magneto Si sporca La gente passa sempre Niente Questo era il villaggio Comunque Non è molto grande La nostra città Però La capitale è modesta Qua abbiamo anche Un sistema difensivo Per esempio Quando i pirati Ci attaccano Dalla torre lì Suona la campana Si sente qui E l'altro suona qui Avvisando E poi c'è lì La campana Di emergenza Al comune Che quando i pirati Si attaccano Viene comunicata A tutti Questa Vuoi tornare a casa Eh perché Sputino Ho bisogno di me Vabbè Allora La accompagno Vieni Vado a accompagnare Il nostro caro amico Come si Tasto a destra Ecco Bene Comunque Come hai capito Il nostro villaggio È veramente Veramente Cioè Ormai non è più Un villaggio Una città Da voi Un villaggio E capisci Che Un giorno Dopo mesi Perché comunque Noi insieme L'abbiamo per T'agosto Dopo mesi Vedere il tuo villaggio Che era fango e merda Diventare così È una grande Grande cosa E immaginati Che Blackwater Diventare così No no Più che altro È bello perché Tutto organizzato Da lì Eh C'è C'è Sì perché Fortunatamente Io sono Una persona Molto Precisina E Punta sempre Alla qualità Comunque Non faccio Entrare tutti Nel server Nel senso che Fanno White list E vedo che È uno scemo Non lo faccio Entrare O comunque Se le persone Non vengono Dopo un tot di tempo Le caccio Quindi Per farti capire Io ci tengo A server Se devono fare Le cose Bene Infatti Vogliamo migliorarlo Proprio aggiungendo Le mod Ah sì Ho letto E che mod Vabbè Poi vediamo Ah Per sapere tutto Basta che vanno Le novità Ci sono scritte Le quattro mod Che useremo Se tu vai nel foglio Del regolamento C'è sotto Novità E lì ci sono scritto Tutto quello che succederà Ai vari ruoli Cosa cambierà Ai vari ruoli E anche le mod Che puoi vederteli Tu da solo Dei trailer Dei video E abbiamo fatto Le cose Ben organizzate Ottonatamente Lavoriamo Un po' di gente Insieme Quindi Cioè fai conto Che a meno 5-6 di noi Siamo che lavoriamo Che mi aiutano Col server Perché se da solo Non ce la farei Ovviamente E minchia Grandissimo Toro tu Ti dovrebbe fare La stazione del trenco Dove? Sono tipo Non c'è bisogno Perché Uno di spole Vedi adesso Siamo con questo Cesso di barchetta Con la mod Che metteremo Ci saranno proprio I galeoni E le navi Proprio Bere e prove Cioè ci avete pensato Sì sì Perché è brutto Anche per le battaglie navali Ogni volta che abbiamo Abbiamo provato A fare battaglie navali Se arriva una freccia Sulla nave Te la fa rompere Non puoi né scappare Né ritirarti Né altro Più diventano a merda Invece con le navi Per esempio Se stai perdendo Ti puoi ritirare Puoi scappare Ed è più bello così Ah Sputino Il tuo lato Quindi ti devo dare Mezza paga oggi Come vanno Vedrà Stato Che po' Allora vai piena Oh Quindi 31 Vado a prendere Allora Allora Ma già ho sonno Eh ma io ho dormito Pure cinque ore Ma domani Devo andare E' Pagoloso Vieni qua Prima di cadere in mare E' Pagoloso E' Pagoloso E' Pagoloso E' Pagoloso l'inventario, quando si trovi qualcosa, quando hai il stock, è timidi il pesce che ti perde, per esempio. Non le posso vendere perchè sono un mio che può pescare, ah quelle baci, beh in teoria non è una sola, il cacciatore le fa, però perchè io ho solo quelle ingrambate, cioè ho pure figli una bacia ma è rossa, deve essere riparata, e io non so se si deve fare dal jotto lo può fare, c'è perchè hai capito che anche se... no, aspetta, ha bisogno di una canata da pesca, ce ne ha ancora nello shop, andiamo a pesca che forse ora ce l'ha nello shop, aspetta, aspetta, andiamo, non so dove l'attività di allora... eccomi scusatemi ragazzi... ma stai maniamo un porco... mi servono un po' di sono le mod roll pre per giocare o va bene solo con ti lancio e basta? allora attualmente il server è solo vanilla, non ci sono mod ma abbiamo dei plugin, però in realtà la settimana prossima aggiungeremo delle mod, che vanno bene anche con ti lancio no no, io non ce l'ho, almeno ce l'ho ormai da riparare e il sole è che il cellulare dovrebbe lasciare le denti di canto, è da lui che le compra, le basi Agne bro, dove sei? qui sono le patate ah ok, io intanto ritorno un attimo al villaggio, dovevo fare una riunione in caso ci sentiamo più tardi mi dica io non posso pagare la metà delle tasse, dato che io non posso avere un problema che è la metà delle tasse? era inutile che le dava con l'incampata che poi... forfano un pagino non ho capito non ho capito, che hai detto? ecco che cazzo è successo? madonna ben che cazzo hai dietro? la madonna oh corri ma che ti aiuto, io non c'ho niente ma dov'è? mi chiudo in casa, oh a panna aiuto, aiuto aiuto ma che cazzo puoi? portalo con te per il fatto del poliziotto io non posso installare ma perché non puoi? ben ma che cazzo hai portato qui ben? ho arrivato qui cazzo c'è la disperta oh ma che cazzo ho sentito delle super esplosioni ma che cazzo stavate combinando? ma dove sei arrivato? la cosa? la nuova è arrivata nella stazione di polizia dove si trova? ah il ragazzo, lui? dice raga, senti allora fai parte della polizia, sei sicuro? vuoi farne parte? eeeh a meno di scosso perché non ho scorsa ora ah si i poliziotti vengono pagati hanno uno stipendio 40 monete a stazione vengono pagati, hai le armature, la spada hai tutti i burro, lecite che vuoi per me vabbè e in più comunque saresti poliziotto anche in questo villaggio perché comunque così hai la protezione proteggi il villaggio tu quindi ti ti benedico come mio poliziotto benedico questa è la tua armatura ma quindi aspetta veramente diventa poliziotto lui? si, però è meglio comunque c'ha l'armatura o qualcosa cioè si trova a valore che ce la faccio io tra poco quindi aspetta lo vado a scrivere che avete un buon poliziotto adesso quindi in totale allora sta Simon, lui, Sora, io cioè siamo più siamo 4 siamo 4 perché adesso quanti poliziotti abbiamo adesso? 3 più te o 4 ma faccio lo cazzo finalmente allora intanto io inizio a tornare al villaggio ad affare la riunione è di ferro, giusto? sta qua allora pesano tanto le mod uso il giga del telefono pesano tanto le mod ah, comunque che vuole un altro discorso ci sta ma comunque le mod che usiamo noi sono molto leggere non dovrebbero pesare così tanto cioè in realtà mettiamo mi pare in totale con gli addon sono 9 e 10 mod per dirti ma è che mettiamo chissà quanta ma mamma mia eh eh guarda tu devo sempre viaggiare da solo ecco ciò è che averva la riunione è che la riunione è che la riunione è che è che si può fare ma è che la riunione Eh sì, la sola, la sola, la sola. Sta arrivando. Abbiate pazienza. Ancora zombie! Basta! Ma che cazzo? Vaffanculo! Guarda! Sto zombie sta rovinando tutto! Dormite cazzo! Ah, è andato a venire al comune, quindi... Eh, ma non posso uscire di casa! Come non posso uscire di casa? Toroto! Ah, c'è questo! Ma che c'è l'anno? Bastardo zombie in merda! Puoi andare, Natio? Ho dovuto ucciderlo bruciando. Andiamo veloce! Andiamo, andiamo! Dov'è il carro e il compagno? Eh, già sono lì, stanno aspettando. Ehi, ritardo! Ehi, ritardo! Mi sembra esagerato! Ciao Felipe! Felipe, perché quando abbiamo le luni non è sempre qui dai? Ti sento interessato! Ok, ma che cazzo... Mi scusi Capo, ma lo sai? Ma lei ha raccolto tanto ferro? A proposito, come va la minera? Ne ho undici in mano! Solo quella? No! Ah, ok! È divided, non esame! Ma mucha più da qui pubblico! Sì, perché ho provato a chiedere a lui se andava nel nage... Ma non vado a prenderla cedilare! Vai, vai, vai! Noi, senti... Mi sa che appena metterà il nuovo mod, romperò proprio il giro. Dai, ti prego, fammi distruggere poi la roba, ti pago! No! Ti pago? No! Ti do i soldi! No, 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 no! Sta arrivando bene Allora intanto iniziamo a parlare Iniziamo di cosa Vabbè avete capito? Allora dobbiamo parlare di cose interessanti Interessanti Allora Delle mure protettive Avevamo già parlato no giusto? Eh sì Ok signori Ma io avevo pensato a sto punto Visto che ci sono cambiamenti in questi corsi Abbiamo scoperto Grazie Ai testi antichi e varie cose Abbiamo scoperto Come cazzo si chiama? Ah i motori eccetera Io a sto punto Proverrei a investire più su quello E le nuove tecnologie Che magari fare un muro Perché alla fine i pirati Vedi non si stanno facendo più vedere Si sono spaventati dall'ultima lotta Quindi Cosa facciamo? E in più E in più volevo parlare proprio con i pirati Per fare un accordo commerciale Essendo che noi abbiamo bisogno Eh? Non credo che accetteranno Ma secondo le mie fonti È una comunicazione che ho avuto I pirati hanno bisogno di merci Che noi abbiamo E viceversa Quindi potremmo trovare Un pacifico accordo commerciale Cioè Almeno possiamo provarci Poi Sì possiamo provarci Perfetto Poi un altro discorso Da aggiungere Sulla questione appunto Della stanza segreta Del tesoro Appunto Visto che stiamo Eccolo bene Lei deve andare via Perché? Ah bene Ah no ma lì già c'era E poi abbiamo parlato Della stanza segreta del tesoro Appunto Secondo la tecnologia Che vogliamo sbloccare Le varie cose Se sblocchiamo i motori Immagino che ci sia Una possibilità Di fare qualcosa Tipo le porte Che ne so Un muro che diventa invisibile Ah ok Quella che diventa invisibile Non credo Ma credo che si possa fare benissimo Con dei pistoni Quella cosa lì Una porta Una porta segreta Cosa so Ma Eh eh Sarebbe la tecnologia Che stiamo scoprendo Ah ok Ok Vabbè comunque Niente Diciamo questi sono i due punti Diciamo questi sono i punti Vorrei sentire anche gli altri Sulla questione delle mure protettive Sostituire quel progetto Con appunto Investire soldi Sulla tecnologia La scoperta Sì Assolutamente d'accordo Quindi Io direi di fare Come investimento Scoperte Per la nuova Tecnologia Quindi La prima cosa Che farei Appunto Signor Ammiraglio E credo che anche lei Sia molto d'accordo Costruire finalmente Un mercantile Se i motori Esistono davvero Possiamo costruire navi Di grandi dimensioni E anche di guerra Tipo un bel galeone Un mercantile Poi Te la farò vedere io Quei pirati maledetti Qui abbiamo un nano Poi Oltre questo Per la stanza del segreto Del tesoro Immagino che siete anche voi D'accordo Che abbiamo bisogno La stanza Per le nostre riserve Che siano monetarie Siano lingotti di oro Di ferro Di cibo Abbiamo bisogno Che il comune Abbia delle risorse In caso di emergenza Wow Sei intelligente Io direi di farla qui Appunto Sei un clown Nessuno lo penserebbe Ad immagino Sotto il comune Sotto il comune Sicuramente possiamo vedere Poi ci penseremo Adesso è E' pressa Per dire Mi dica Perché è una cosa Che dovremmo sapere Solo io e lei Sia a parte No No Non mi è stata una cartina Io non c'ho niente Mi sa di se Bene Bene Comunque queste Queste erano le comunicazioni Importanti Poi ci sono quelle più futili Che sono appunto Abbiamo finalmente Nuovi poliziotti Ci stiamo un po' espandendo Sono arrivati Nuovi cittadini Che costruiscono il villaggio Per noi L'unica cosa Che Che dobbiamo buttare Probabilmente due attività A terra Perché due player Non verranno Mi sa Quello la Nitros Boh Sparito E Alle 87 Ita Che ha detto che Alle 9 Va a dormire Ma questi sono altri discorsi Che aggiungiamo Fuori rp E questa me la vedo io Domani Cioè domani Li levo da mezzo Anzi no Aspetta Fammi vedere In realtà Hanno altre possibilità Sono a due Giusto Quindi venerdì in caso Se non vengono Vengono eliminati Da serve Poi il giorno dopo Vabbè Detto questo È finita la riunione Potete dileguarvi Potete fare le cose vostre Eh sì Quella più grande L'abbiamo fatto prima Detto questo Signor Felipe Lei quanti lavori fa? Ah senti Due Lei fa due lavori Mi pare Ah ok Lei è l'Enchanter Questo lo sapevo Vorrei Effettivamente Ultimamente Avrei bisogno Sono meglio Qualcosa di bello forte Ma che sarà Schildo di Batman È proprio brutto Porco a dire No Fortuna Salve Come va? Ciao Felipe Felipe io avrei richiesta per te Venga con me Cosa vuole Vorrei 5 euro Tutto 5 euro 5 euro 5 euro Allora 5 bocca Si può fare diventare Un acciarino Una forte arma Potente Un acciarino Che diventa Super potente Guarda io sono bravo Guarda No sto scherzando No sto scherzando Vorrei un'armatura Più resistente Ma l'acciarino Forse anche poi Lo ha incantato Oh veramente Si va incantato E' roba che puoi consumare Vabbè comunque non era per l'acciarino Vorrei L'aromatura Più resistente Ma se vuole Le ho i cristalli No ma non puoi I cristalli Ah Ah Grazie ora me lo porto a casa Ah te l'ho posato Allora Ma vuoi il diamante Non terra La apromatura Dici Eh certo Il ferro si rompe Eh ma il diamante Non so se quei po' racci Ce l'hanno No ho venduto di tutti Ma è sempre il comune Mica mia Eh appunto Ma se le ha fatte ad altre L'armatura è in diamante Ah c'è il danno Non ce l'ha c'è No ce l'ha c'è No è di Eeeh no per bravo Lo dico Il ferro fa schifo Cioè si rovina Poi disperse un sacco di livelli Non ce l'hai i diamanti tu? E' che tanto quando ce li vende Eh? No me li vuole comprare 22 mi pare 22 mi pare Come li vende a 30 Un diamante a 30? Una rivenda a 15-20 Ma che cazzo dice quell'attra Quello è prezzo vecchio Quando è che ti fai un negozio di abbinatore? Ogni volta che Allora visto che è inutile Ogni volta Se c'è un cazzo di costruttore vuoto Per una volta Minchia Ci sono i costruttori vuoti Ma lì è vuoto Se quella sta facendo la cazzo Ma mica c'è solo lei C'è Giovinciulla Ma fa schifo Ma regà Non fa ne schifo Ma posso dire Come lo faccio da solo C'è un cazzo Giovinciulla Sta facendo la casa di Non è vero Giovinciulla è bravo Gli mandi il video E ti fa come Te chiedi No ma no Io Cioè a me piace Non mi piace Non mi piace Mettere lì E uno compra Non mi piace Ecco vedi Mi piace contrattare Ok gliel'ho scritto Vediamo Vuoi dire caro? Ah è qui Simon vieni Allora Ha detto che Parla con lui Fate questo affare A me sei bell'arma La tua armatura Questa Oh Guarda dimmi Ma qua Ma qua Chi serve? Ah lui Sì la con l'armatura Ti ha Anche no Dammela allora Sì la cosa Allora Dammi Io le cuore Cioè No le vende 22 Vediamo Quanto fa 15 Ti ha detto 15 Dipende Se ne compra Tanti Anche Se ne compra Tanti Un diamante Sono 330 Aspetta 15 diamante Ti ho detto 15 giusto? Sì 15 Per 22 Sono 330 Monete di Lame Porco Dio Oh Sono 330 Se sono 60 Dammi 8 Diamante Che cazzo Te ne fai Ma lui vuole La pulare E io tengo 18 diamante Ne hai chiamate Ah ok Allora Che cazzo di Da L'armor Per l'armor Riesco a pagli Non riesce 10 10 Non riesco a pagli Però prima Che so Quanto diamante 8 diamante 64 1 Ok 15 Per 4 Sono 60 Mi ha dato 120 Vediamo Quando lo riesce Ok Che cazzo di Sotto ti mandi Se 4 Sono 64 Oh Finalmente Mamma mia Quindi gliela fai O io non la Lei gliela fai O non la fai La craft E' alta E' alta Qua Io ti bago Per ogni Per ogni Pezzo dell'armatura Do una moneta di rame Ok No Aspettate Ho buttato insieme qua Non c'è spazio Oh Allora Sono 400 Cosa? Sono 400 Ah Porco dio Dani Andiamo Subito arriva In center Mi piace Mi piace Il prezzo Dove facciamo 400 A tanto Se ti piace Se vuole Le do 300 E mi dà pure La sua armatura Ok Perfetto Ho 800 Allora Ho sbagliato Cassa C'ho Vediamo 60 120 Vieni Vendami poi 180 E' buono 240 200 300 360 60 120 120 240 300 160 400 120 120 120 10 120 10 120 180 240 300 mi stai messo da red vabbè sono 400 tiè no c'è prima che mi copisco dobbiamo avanti hai visto prego? si è andato da un attimo eccomi qua allora lei eh la vuole per la potenza potente e armatura eh beh certo cosa mi serve la preslazio? spero che vado a prendere il comune no 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 non posso mai allora io direi quell'armatura è già bella potente spunti che io ce l'ho e solo su un pezzo ho protezione e gli altri ce l'ho neanche il creeper mi fa tre di da si ma io voglio la mia armatura sia forte e potente ok la faccio incantata OP ci metto tre giochi e la faccio buona ma quanto mi costa? dipende di più quanto è il massimo che uno può pagare? diciamo eh dipende sull'armatura l'incantamento migliore è protezione ok se esce protezione 4 ti abbraccio fare rompette vabbè se esce qualcosa di meno 15 va bene va bene affare fatto poi se esce protezione anche altro basta far scalare 20 25 30 vabbè è importante che ho la mia armatura figa vabbè chi ha detto niente? mi ha detto no fammelo subito eh no chi cazzo l'ho detto? mi sono scemo mi è preso mi è preso quando è cioè ora la metto a casa sì vabbè ci sta è normale domani è lunedì giove via aspetta aspetta ah ok niente quindi vai gialletta sì ah è bella la di la gialletta 53 minuti il finish vabbè è che i gol per 10 vabbè è che i gol per 10 vabbè è il Mauro è stato usato è vero è vero è stato bello arrivare a 100 salve però sì eh ma sai che per qua ti dico quante sabottive? 97 3 salve ma ti dà 3 modi no non dà un cazzo perchè sono affiliato praticamente io ho sbloccato le mod ma se no non la partner quelle mod quelle emoticon non me le dà eh eh la partner e la vedrai con gli occhiali ma con gli occhiali non la vedrò mai è diverso siamo sinceri ma quando farò 70-80 aspect of peace? intanto dai ti auguro buonanotte peccato che io non vedrai gli ottimi 52 minuti a 52 minuti devi fare un cazzo no ma mezzanotte non sacco poi cioè ci mettiamo a vedere qualche video e poi vado a letto ma tu mandi quella roba a stare dai buonanotte signor felipe gli auguro una buonanotte se ne va felipe? si vado che va bene va bene va bene va bene va bene guarda guarda è il fuoco è il fuoco è il fuoco è il fuoco mi chiamano è il guerriero fire mi chiamano si chiede a qual cosa devi costruire le perrute eh devi parlare con i contadini sempre c'è i contadini eh c'è solo quella blackwater adesso online ma l'altro ha messo le anguglie a fare ma senti signor doge vuole che vada a prendere qualcosa a blackwater ah vuole che vada a prendere qualcosa a blackwater ma credo che abbiamo preso tutto ah devo dare saldi a panzer allora io che cazzo devo fa adesso adesso? eh lei deve venire con me adesso no teoricamente non può coltivare le verruche perché cioè dovrei portare io dal nether dovrebbero portarmelo dal nether eh buonanotte buonanotte a rivederla a rivederla a rivederla signorina teoricamente dovrebbero portarmelo dal nether comunque vabbè poi dopo adesso ne parliamo va bene va bene ma ce l'hai? quanto le devo dare? ma mai ce l'hai io oh un conto bancario? ok sono a due staxi vabbè 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 eh per i conti bancari c'erano gli interessi no non abbiamo nessuna legge sui conti bancari non abbiamo anche ancora la stanza del tesoro ma eh se uno vuole aprire un conto bancario glielo puoi aprire eh lo puoi mettere nella sua cassa privata dei documenti penso perché c'è il legno qua fuori? non lo so come l'hai messa ma ma sta carne? non mi l'aveva chiesto carlo oppure quella normale questa costa di un euro ma costa una moneta a pezzo? eh vabbè no no però a 64 te la faccio pagare a 30 35 va bene le da 70 vieni mi aspetto a fare sì mi aspetto a fare io posso aprire le cose va bene va bene signor Giliberto apriamo i conti bancari così rubiamo i soldi ai cittadini non credo si possa fare eh però va ah oppure devo dare da mangiare a queste cose non mangiate a queste cose ah ok ha già detto vabbè poi vedo ha cambiato già idea è bastato poco allora il nostro caro amico poliziotto ha fatto non so questa questo affare economico non so per cosa eh che ne so ha comprato la carne ciao come va visto che è deceduto pari volte eh porca troia in una in una ho perso veramente una marea di roba cazzo mi spiace e' vera ecco ho perso una marea di roba che non avevo ancora usato cazzo un botto di frecce che mi servisbbiamo per il gas la sotto tenere pagamento ragazzi ho trovato anche dei libri vuoi? te li vendevo molto meno rispetto al carico del capuchomo ah ho sbagliato cosa? che trovo? e che me lo devo fare? sono tutte le librerie eh si ma quanto me li vendereste? e che quanto mi compri da 6 facciamo 3 va bene quante ne hai? 18 e fai 18 per te? quanto sono? sono 54 ma la carne perché l'ha comprata? non lo so ho detto che c'era una scontra vado a posare la carne e prendo i soldi signor sindaco mi dica che è successo? è che io mi sa che ho idea che appena metterà le nuove funzionalità del mondo lasci il mercante cambierò la mia attività esatto eh ma perché tu non hai i wolverini per questo? eh? perché tu non hai i wolverini per questo? ma no guardi guardi scusami guarda qua ah vabbè forse da poco l'hanno messa non lo so no no è da un sacco che ce l'hanno aperto già almeno da 3-4 sessioni allora non lo so è perché col fabbro hanno molto da fare boh eh appunto non ho capito neanche perché l'hanno aperto boh io so solo che è andato male perché le persone non sono capaci di fare il loro lavoro no la gente non è capace di andare nel nether ecco ecco no le mie patate quindi la gente si scazza eh sì ma più che altro basta fare attenzione e cioè nel senso non può trovarci molto allora fammi fare 18 per 3 che mi sono dimenticato quanto mi costano cioè o vado io 54 appena mi ero proprio dimenticato ma non posso andare io che A non sono buono a combattere B se poi servo A che cazzo faccio vabbè non ho assolutamente quindi non posso mi seguo un attimo che parliamo mentre andiamo perché devo usare i libri per la mia azienda che mi sono comprato i libri da uno e quindi sei un po' incurato cambierò attività appena possibile boh vabbè vediamo un po' come va più che altro se avessi avuto quei cosi di blitz avresti fatto un sacco di soldi eh sì ma infatti ma oggi sto un po' vendendo perché la signorina stella sta comprando un sacco eh perché per le pozioni serve eh sì per le pozioni il problema è che le cose principali non si riescono a prendere ah tu dici il quarzo per esempio no no il quarzo ce ne ho un sacco il problema è che ah no non riesci a trovare ah non riesci a trovare le idee sono quelle che ma dove sta la panza ah oh tieni ti mando i soldi qua a te ma una domanda se io per caso avevo delle verde verde del glitz non delle verde delle verrucche avrei potuto coltivarle ma teoricamente potresti anche venderle al contadino anche il terreno non potevo è perché loro devono usare un terreno specifico quindi dovrebbero comprare anche il tuo terreno eh ma coltivarle io non posso sì me le faccio da solo wow teoricamente che hai detto? avrebbe stato molto utile aspetta un attimo perché non ce le ho al modimento che c'è Nati? Nati? sono un attimo ah sai che sta volando con me comunque cosa ne pensi della mia pelata? minchia molto triste adesso allora vediamo eh più che altro la polvere illuminite pure servirà più avanti quando si faranno le luci poi mi pare con la mod con la mod se non mi sbaglio servono alcuni materiali del Nether servirà tantissimo l'oro anche eh serve tanta roba solo che non mi ricordo il problema è che se non c'è la gente che va a falla non mi ha potuto fare buono eh lo so lo so lo so il problema è quello ok in 4 ci hanno provato in 4 hanno desistito ma che è un mago figlio ma quello che cos'è? sembrava un pirata no era tipo un pesce baggato ah intanto ci sono quei pesci si che vengono fuori a casa eh non ho senso comunque cosa ne pensi della mia casa? è molto carina è vista per me è costata un polmone 9 stack più dati soldi a Chewbacca 10 stack e mezzo eh sì quanti cazzo di soldi avevi? sai Natia ha venduto il libro 7 stack una volta eh la straforte io c'ho beh anche io in realtà anche io come soldi non sono messo male perché c'ho una cazza pratica ho visto sei ricco e ti lamenti che chi parla d'attività non va però i soldi intanto ce li hai eh ma io li so di scoprire per le robe del comune quello è il problema non perché non per la città finché non viene licenziata e beh sì i pirati mi sa che ci farò di tutto per tenere entrambe le cose e beh guarda comunque l'attività prima o poi vanno bene ma più che altro si deve vedere con le mod come va perché cambiano un sacco di cose perché da come ho capito addirittura ci sono dei macchinari che servono i blades diventano tipo dei forni eh sì proprio di mostro? sì viene sciolto in questa cosa eh non so è strana non sono riuscito a vedere tutta la moda sì ma se non riusciamo a trovare un blade per il blade per le verge del blade come cazzo puoi mettere in trovarlo per fare un controllo minchia sono andati veramente tutti a dormire eravamo 21 siamo 10 adesso vai vabbè ah comunque se premi P è meglio ti dice tutti i player ah oddio vedi è molto meglio così vai dimmi è che ne so era di minecraft penso ah è proprio di minecraft ah no forse l'ha messo Martina mi pare non mi ricordo comunque c'ho ma il server è pubblico eeeh ni nel senso che si è pubblico chiunque potrebbe entrare facendo la whitelist è privato nel senso che comunque apriamo solo due volte a settimana perché è un server solo per rp e in più siamo pochi player quindi non avrebbe senso averlo sempre aperto vabbè comunque stiamo dicendo che ci fa qua qua eh no posso prenotare il burbolo per? il lavoro me lo posso prenotare in che senso prenotare? non riusciranno le mombe no e guarda che cambia che cambia ma che c'è l'amica devi prenotare se 7 di voi fate gli armieri sono cazzi vostri in senso questo sono scogna è perché l'armieri è un dita al culo come hai fatto a capirlo? perché uno è l'unico ruolo che si sblocca no si si sblocca l'aeronautica ma non ora molto più avanti ma è perché io che volevo fare un armario scogna da come ho capito Daniel o no Wolverine no Wolverine l'ingegnere Daniel mi pare no Daniel no non vi ricordo ma non no no ah tu sei vero tu Panzer e qualcun altro l'aveva detto chi ha pizza e che cazzo si ricorda no pizza no non gli interessa perché pizza c'è altre cose da fare pizza c'ha la religione comunque devi minchia tu Panzer devi ripagare ancora il secondo ruolo capito ma tu pensa che pizza fa quello che è dell'antico dio che si occupa della religione più il fatto della storia dei libri la tecnologia infatti Dani cazzo c'è già per favore e poliziotto deve fare quel cavolo in un giugno diventa un armario no no ho sbagliato non era lui è Wolverine che fa l'ingegnere ah non fa vabbè vuole fare il armario ma figa Wolverine fa l'ingegnere si vuole fare questo all'ingegnere è la terza è la terza licenza per lui eh da come ho capito sì perché comunque continua a fare fabb tanto si dividono il lavoro loro due sì ma è un problema se magari voglio iniziare a costruire diciamo un'attività alla prossima sessione a parte non è che ti posso mettere sul libro un una un non significa niente tu non è vero perché tu non ti posso mettere sul libro un 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 come si dice un mestiere che ancora non ci sta quando ci sta potrai farlo niente non si capisce non fa niente lui diceva che senso comprare solo il lot della terra credo e costruire l'edificio esatto sarebbe inutile per rp farlo perché non hai un mestiere usero quel negozio solo per venderla no vabbè comunque è stato fatto che state un po' correndo cioè non sappiamo manco se riusciamo a metterla io ho fatto sempre negativo oh ma più che altro la cosa che il cosa dei vestiti no eh quello non abbiamo trovato mondo però ah no perché non abbiamo controllo dopo il server controlliamo un po' prima di stacca perché tanto la live finisce dopo il server ah ok ah allora vabbè poi vabbè lo vediamo se lo troviamo qualcosa magari più che altro perché mi sa che qua adesso non ci ho cominciato a fare quindi tanto faremo le volte no ma più che altro devo capire alle 87 ita e sto ragazzo se vengono meno perché non ho capito se vengono io venerdì prossimo dovrei esserci invece domenica no guarda discord minca vi state passando il tempo ma tanto il tempo e niente i pirati ho fatto dare uno piccolo spot ma comunque che stavo dicendo no io ti stavo dicendo che sicuramente venerdì dovrei esserci domenica non ci sto proprio vabbè tranquillo tranquillissimo se non ci sono neanche venerdì sarà troppo boh vedi mettiamo le navi venerdì forse se tutto va bene sì sarà mandato il server mi perdo il baro delle navi poi vabbè l'unica cosa che stavo dicendo è boh alcune persone devo capire se vengono o no io loro provo a scrivere a lui vediamo forse ritorniamo a 30 eravamo arrivati a 30 ma ritorniamo a 30 vabbè ma Paolo è venuto venerdì ieri ricordati che ieri non conta come senza è come se solo oggi fosse mancato boh vabbè niente questo era il tutto diciamo a parte anche io sono stango c'ho 5 orizzonti addosso ho dormito proprio ieri mancano 34 minuti ma finalmente finisce ci sta doveva avere una fine oddio mi dispiace perché mi è piaciuto tantissimo un maratona però non so se è stata una delle migliori che abbiamo fatto il funerale a Don Gintero porto di Sifili della Sacra di Sifili perché le abbiamo trovato con due donne che erano dei demoni giusto ci stavo cioè praticamente ho detto che c'erano due donne e ho detto che ti hanno corrotto e ti hanno ucciso di Sifili è una bella morte poi c'è stato Panza che è morto nel Saber ma è morto non in personaggio l'anima si ho visto dopo aver perso tutto l'unica cosa che speravo di trovare tanti player attivi come noi però vabbè magari quelli non attivi escono ma sicuramente troveremo nuovi player più attivi si levano più che altro mi devo ricordare che togliendo quelle due persone devo sistemare l'attività del minatore e togliamo tutto l'altro fortunatamente non hanno costruito quella è la cosa buona eh ma non capisco perché non fanno due sezioni eh magari non gli è piaciuto eh magari devi contare anche quello invece gli altri che non stanno venendo mi hanno mi hanno detto tutto cioè nel senso hanno detto che loro aspettavano Ale volevano fare sempre con Ale ecc non so come mai è R lì solo la prefizia l'è venuto oggi ho detto forse veniva infatti è venuto gli altri hanno detto aspettano Ale per questo che sono contenti di aspettarla ecco hanno detto preferiscono si perché stanno facendo un rp tutto insieme non vogliono venire non fare quell'rp ecco eh sì stanno facendo tutta la roba loro da come ho capito se ho capito bene tipo è come se fosse una gilda mercantilia tipo loro tutti lavorano scambiano tra loro credo però è una mia ipotesi perché non lo so a me sembrava così se vuoi venire ti faccio uno spoiler e ma così dopo sono tutte le cose vostre quindi posso assediarvi distorgere vostri scogna per forza vuole farsi rubare sì sì scogna buah niente comunque signor Gilberto quando ho tempo si faccia una casa simile la mia a me ne va benissimo la mia casettina la peggiore è quella quel cesso lì Gesù Cristo perfetta la mia casettina sì ma quel cesso lì da distruggere quella di Sara che per panza ha detto te la pago io se togli quel cesso si prova adesso se ci apri guarda che bello e sopra ci vive e ci è lei ha fatto proprio la scala per non uscire più sale qua sopra tu chiedi tutto ed è finita un po' poverina cos'è sta roba? è il suo palco di una persona che lui ospita vive con lui perché è povera non si può più permettere la casa è la fine che ospita mi pulisci un po' gli esterni hai ragione aspetta grazie grazie ma vaffanculo quanto è il prezzo di veneta di un diamante? l'hanno venduti a 15 prima ma che mica ci ha messo una vita cazzo dai ma che a 15? eh prima stavano a 30 adesso sono scesi perché ci sono tanti minatori perché lui li vende diamanti? sì sì erano stati i primi ah sì loro li hanno a 30 ecco perché ah ecco perché si lamentano uno di prezzi alto è che un po' tutti li vende uno a 30 però c'è felipe che li vende a 15 comunque se li mette a 20 è un buon prezzo già se li mette a 20 secondo me se lo comprano aspetta ragazzo un po' 25 poi vediamo un po' lei insomma aspetta io devo aggiungere che lui è il nuovo minatore mi sono dimenticato di sta storia ma lei si rende conto che 7 dei nostri cittadini sono minatori e non riescono a prendere mezzo mila giusto giusto per fare un po' di dissing sono più forniti i pirati e sono solo in 4 noi ne abbiamo 3 pensa che un boffo l'altro ragazzo su black water ha trovato un po' di roba ma black water quanti sono alla fine 3 cittadini si per ora si però ho detto dal regolamento che possono arrivare al massimo 6 cittadini si si se arriviamo a 40 abitanti 7 quindi onesto non serve un cazzo avere lì qualcuno come non serve cioè è per 6 persone che cazzo fa minchia fanno tanto solo il contadino sarebbe venire come un porco si ho capito però per 6 persone venire a un sindaco mi sembra un po' uno spreco ah dove c'è il senso il sindaco si in quel senso vabbè ma lo fa uno che abita lì e siamo forse poi oddio non è una cazzata perché comunque può capire dove fare investimenti dove migliorare se siamo sempre qui come lo capiamo eh ho capito però nel senso possiamo decidere di andare là ogni tanto e controllare ma secondo me mettergli c'è un tizio è un po' troppo qui che altro lui ha chiesto la stazione di polizia ma per esempio la stazione di polizia è un po' inutile ci stava il porto perché comunque per riscambi commerciali ma più che altro perché se possono stare sui in sei che cazzo puoi fare nei polizia sì appunto ha sette minatori che ne fanno un quarto dei pirati i pirati sono fortissimi scogna continuo a parlare dei suoi pirati magici oh vabbè comunque in generale ripeto secondo me se trovassimo dei player seri come noi secondo me sarebbe tanta roba perché mi cazzo di andare tornare però oggi per esempio siamo stati 21 c'era tanta gente alla fine perché mi cazzo fa conto di minare se no le avrei fatte no vabbè ma io dico nel senso che siamo 21 player c'è stata tanta gente quindi c'è stato anche tanto movimento infatti quando c'è tanta gente quando la cassa si riempie perché tanta gente pagatasse eh ma fai conto che qui aveva l'altro cassa di soldi è finita è gli investimenti che abbiamo fatto però qua era così prima ti faccio vedere prima era così ora adesso ho tutto non sono pochi noi stiamo parlando di affare le parla vengono qui a disturbare ma se mi ha il fantasma boh comunque facendo fuori 1 e 2 siamo 30 dovremmo pensare a se qualcuno mi fa le depositi dobbiamo pensare un po' come il giudizio scoglie che continuano a mandarmi invangili per vantarsi del suo operato ma lei è inutile che si vanta noi siamo più potenti però possiamo pensare come giustizioni i conti bancari che è ma che è e poi io ho chiesto se vuole se vuole se vuole se vuole no non ha senso teoricamente non ha senso però se uno vuole fare comunque sta di fatto che quello che diceva è bello sensato secondo me se entrano quei 4-5 player attivi secondo me è molto più meglio perché se ne vanno altre 2 diventiamo 30 se arrivassimo già 35 no no non sto parlando di là sto parlando in generale che avendo più player proprio attivi fisicamente è meglio perché l'economia gira molto di più perché sono più persone che comprono più persone che consumano vabbè si inizia a togli perché tanto non verranno sì ma io anche i questi non li vedo più che è di nuovo prima te l'ho detto sono quelli ma sono loro quelli che fanno tutti insieme sì piff è quello che c'è oggi con noi allora lei rita puoi anche cancellare no mi avevi detto che era venerdì ma vaffanculo tanto non verranno mai non te le perde la tempo perché hai scritto a paolo l'olota che hai scritto a paolo l'olota ma che cosa che aveva scritto no ma perché mi tocca dei cartelli che ci sono queste cosa che avevano scritto paolo l'olota manco sanno chi è questi scrivono paolo l'olota chi può essere stato quello davanti a me ma non so chi è paolo appunto è scritto su l'olota allora questo è un altro documento guarda quanti comunque ce l'abbiamo l'eco se vuote guarda se conti è uno due tre quattro cinque sei hai sei casse sono sempre la stessa cosa vabbè è meglio usare prima queste qua e poi quelle interne finale intanto io dico di levarli già adesso e ce ne abbiamo un pensiero tanto non verranno più liberiamo il cacciatore cacciatori sono da tre di nuovo a due ragazzi perfetto poi togliamo quest'altro che è un altro clama oh daniel ha perso un fedele perfetto mi piace quando daniel perde cose ok vedi adesso siamo di nuovo seminatori perfetto totti vado ragazzi uso una magia guardate per sistemare questa cosa vado a creativa e vado a distruggere loro operati vedi vedi cosa me no sbaglio Sì, ora Vedete ragazzi, ci vuole pazienza nella vita Per mantenere un server non è facile Eh non è facile signorina stella, non è facile Mantenere un server, guarda sono usciti, due play non si sono connessi più Ho dovuto eliminare la loro roba, sistemare i loro bucazzi Ma dove venire la tua amichetta poi? Non lo so neanch'io Si vergogna? No, deve fare la viziella da bambina Di due anni Ha paura di fare cose con altre persone? No, è che è fissata con un altro gioco Ah, League of Legends? No, è già Eh vabbè ma... È meglio non constrangere mai le persone È meglio che vengano di loro spontanei volontari A me mi gusta, mi dà fastidio il fatto che devi fare la viziata E quando gli parli sparisce Perché non c'è, voglio dire, avere un discorso visto che non ha un cervello Ma dai, alla fine ti diverti anche tu da sola Sì, sì, figurati, però mi dà fastidio l'atteggiamento Ma non pensassi Ah, alla fine non andare troppo bene Io sto nemmeno dire come quando fai i bambini Oh, ho provato per sbagliato, piaci te Ah, tranquilla Grazie Vai dai, vado a sistema le ultime cose Mezzanotte precisi e stacchiamo perché giustamente Tra poco finisco anche la maratona E poi vediamo le ultime cose per il saber moddato Perché lo modderemo Metteremo un sacco di cose nuove Sì, sì Perfetto Dai, non so se hai visto il foglio Il foglio? Noi abbiamo messo su Discord mio Sono in generale le novità che usciranno nel server Se vuoi vederle, vattelo a vedere Ah, adesso le vedo Eh, vedi, vedi Intanto, mentre le vedi, sistema un po' e poi ritorna Mi dici se ti piace Questa è una roba Questa possiamo far sparire tutto Estrogi, 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 estrogi Estrogi, estrogi Estrogi, 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 estrogi Estrogi, 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 estrogi Estrogi, ancora, via, via, via chat gioco ok eccomi qua ho fatto tutto hai dato un'occhiata veloce? si si è vista vedremo come andrà in questi giorni ci lavoriamo adesso devo fare una magia magica ci rivediamo un breve andato si dai ma devo andare dall'altra parte del mondo ma perchè non ha dormito nel suo letto adesso? io devo chiedere a scogna se si può togliere sta merda po' brutto sto ponte cioè sta cornice è bruttissimo da vedere dal nostro villaggio ma che era fatta una singelata lo so frappude torto 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 darà torstill ch Cioè ti rendi quanto cosa sto facendo io? Non male che mi posso tippare su qualcuno dopo Sto gioco facevo prima venire con la barca che venire cos'è Per evitare di non farsi tippare basta che vai sul tuo letto tasto destro non viene più qui Perché vuol dire che non hai messo lo tuo spawn qui Se vai sul letto tasto destro ti imposta lì Capito? C'è un buon Ma? Ma? Che cosa è successo? Grazie Aiuto, cosa avete fatto nel server? Senta tu Sì, sì, rientra, puoi rientrare Aiuto, mi ha dato un errore nel server, mi ha dato Su una questione di build, che cazzo stavate facendo? Qualcuno ha fatto cash il server E infatti mi ha portato indietro tutto Ma non so qual è la strada E ora hanno trovato la musica Eh, lo so, ci hanno mandato indietro Ma io, porco Dio, mi devi rifare tutta la strada Ma io, che cazzo avete fatto? Eh, eh Ma funziona il cosa? No, aspetta, dobbiamo rientrare Ok Voilà Comunque, dicevo, se vai sul tuo letto Imposta te adesso, che fai prima? Ma? Eh, che fai prima Ok, adesso rispawni sempre qui Se vuoi testiamo, ti ammazza Ah, non vuoi provare? Eh, devi fare attenzione Ma che hai perso? La zucca Ma dov'era? Ti ricordi? No, io c'ho qualsiasi mosezzurro in dove c'era un villaggio Mi ricordo che c'era un villaggio Eh, oddio, non è che ti posso aiutare in questa casa C'era un villaggio Ma è stravonco il villaggio Dov'è andato? Eh, trovarlo non sarà facile perché non so dov'è Va bene Aspetta, faccio un regalo, vieni dai Tieni Tieni Tieni, guarda dietro Dai, così sei contento Hai, hai visto? Ti ho contentato Io, ritorni un attimo indietro Sbagliato Ho portato tutto il villaggio Aspetta un attimo Scusami Eccoci qua Ho sbagliato bro Mi sembra che non eri in viaggio E basta Ti ammazzo e piangi Ecco la, mette la maschera Sì, vedi Poi la brucieremo E perché la stanno gustando? Minchia sarebbe bella Perché è la loro fede Perché tutto è RP Grazie a loro Quando mi costruisco la moschea Pian piano Cioè loro sono La loro Vabbè La loro razza Cioè non sono come Noi Sono arabi praticamente Loro hanno una tecnologia migliore della nostra E infatti loro ci faranno scoprire Scoprire i motori Però adesso si chiama RP Solo che tu Sai fare solo una cosa Soldi e droga La cosa migliore che puoi fare Ti ho cane C'è una bella pelata Posso diventare un miraglio di black Una volta La stessa cosa sta dicendo Non sembra un miraglio Sembra il sindaco Ma che signore Allora Dove mi consigli Di fare il negozio Ormai io Ah vera Ah quindi vuoi ovviamente fare l'armaiolo Certo Alla fine Armaiolo fa armi e cannoni Gisto? Sì fa armi No fa armi e munizioni per i cannoni I cannoni li fanno ingegneri Cioè tu fai pezzi magari Per montarlo Ma tutta l'ingegneria fanno loro Fai i pezzi e le munizioni Vabbè lo faccio io Vabbè sì Ma la parte per esempio tecnologica Ingegneri Vabbè comunque Che ne so fra l'ora Sinceramente di là Ci potrebbe pure stare Perché è pieno di negozi Ma proprio perché è strapieno di negozi Che secondo me potrebbe non essere Tanto forte come cosa Invece qua Si stanno aprendo nuove attività Comunque qua di passaggio C'è la strega Che comunque va alla gente C'è il minatore C'è il fabbro Se la fai nelle vicinanze del fabbro Sono più buono Perché la gente va sempre dal fabbro Scusami di questa roba qua Ma di nessuno Se non bruciamo Una pezza di soldi Me la faccio io Vabbè qua non è magra Qui secondo me Ci può stare Anche vicino a porto Secondo me Qui è un maio Un punto strategico Ma che stai c'è? Non so Per me mettere Almeno prima Come un picciol legno Ma sono due cartelle A parte Ma se vuoi te lo do il terreno Vieni a pagare il comodo No E quello paga a passi Finché non c'hai Ce l'ho Capito Lo pago Che poi Non lo so neanche Allora Che cazzo lo stai prendendo Ma io solo prendere il pezzo Mi te la guarda Ah E mica lo puoi prendere Invece No Non posso Vabbè che lasci i cartelli Non ha tolto discorso Ma nessuno se la prenderà Ma appunto perché lasciate i cartelli Ma quando Ma quanta cazzo Debo che ci sono Ah Quando torno Le metti a poi Ah Eh no Presto Ah le mettiamo noi dove Deve solo attivarci la roba Lo può fare da lì Deve solo metterci Che possiamo mettere Forge Ah si perché Praticamente quando lo attiva Ci escono le cartelle Basta Se non ci sono le cartelle Non possiamo metterle Ma quando stavo lì Favre la live Ma non lo so Sincero Se volete fare qualcosa Ma siamo rimasti solete Forse Insomma Anche se c'è buff Buff è sparito Ma si Meglio scritto Mi ho scritto solo Gio merito Quando Quando tu eri nella vasca Adesso è appena Svigliato E basta No Eh Non ti so dire Sinceramente E che vuoi farlo Eh Aspettaci 5 minuti Eh dopo Possiamo magari Mo chiediamo a cala Mi fa cala Che Mi fa cala Mi ha comprato lì più Eh Che hai detto Aspettaci 5 minuti Non ho fatto 6 minuti E' Piff Piff Compro un battuto Ma Non me ne ho più capito Quante due le ho C'ho tipo 20 stati Eh ma Il problema Sai qual è Che Le frecce Ormai Non si Ah si ma poi Si in foto No no Ma le penne Servono per i libri Principalmente Comunque Il tipo se li compra Pochi Perché comunque Non è che può Fa 10.000 Guarda Gli resta Merda C'è un bel po' di roba Adesso E guarda qua C'è tutte le Ti ricordo Vabbè Mi hai fatto bene Fra perché Comunque Così significa Che se c'è tanta roba In macellare Puoi mettere Un attimo In stand by E poi Puoi dedicare Più tempo All'altro E ci vorrebbe Quella mod Del carretto Ah ma hai trovato La letterita Eh si Non lo so Sono due frammenti Su quattro Ah Guarda quante cazzo I soldi Tiene Guarda ma dove cazzo Fai tutti quei soldi Cavalli Io non vengo la carne Devo fare per forza E mi sconti Ma se no la carne Ma no Ah Somma non c'ho bisogno Somma non c'ho bisogno Hai capito Perché voglio fare Il maio Perché Il mio Faccio I pirati Sono morti Da Cinque sessioni No no Due sessioni Aspia no Sono venuti Meredi No ma stanno Facendo anche L'orila pulifra Eh appunto Scogna ha mandato le foto Scogna Ora sono venuti Adesso ne faccio Andare una cosa Quindi come facciamo C'è una cosa A più che altro Sai cosa Oh Gesù Cristo Oh Gesù Cristo Oh no no Fra è meglio che fai così I pirati così non vengono Non possono scavare Ah hai capito Però così Ah beh Quell'altra cosa Apriamo un po' di doccia Porca Deve Faccio mettere Le vendere La preferenza Vabbè comunque Da macellaio Riempito Ci sta Perché ora Non hanno Hanno un'utilità Limitata Sinceramente E che il cavallo È figo Non lo metterai I veicoli Scusa Quali veicoli? Non i veicoli Scusa Non mi sono confuso Ma Non mi servono I veicoli Ma I cavalli serviranno Secondo me Quando avrai Fatto che ti puoi Trasportare le cose Con i cavalli I cavalli Sono veloci Quello La diventano Ok Sì Sei bellissimo Di roba Come Macellaio Hai farmato Un sacco Sì Mamma C'è La casa Di Carlo E mi so Ora Ho fatto due Sono eliminato No Vabbè Quella di De Carlo Non puoi dire Che è stra brutta C'è Quella là Più brutta È quella O pure questa Di Daniel Sto detto Di merda Ma cazzo Rispetto a questa Di sola Vabbè Quella di sola Volevo dire Al contrario La volevo La di sola Perché qua Mi costruivo Una cosa Tipo Devo costruire Il negozio Vabbè Fra mai Ucesse Questa Sì Che è Per cui Se Comprovo Sta Casa La Battevo E facevo Il nuovo Negozio Ma Negozio Dopo L'altra Partita Perché Se Noti Io c'ho Tutto Su Questa Zona Che è Quello Che Accorre Parco Auri Frizzo 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 L'ho E' Proprio Un business Proprio Compro Da tutti Anche Da me Ora Compro Le perle Le perle Dehander Ma Io c'ho Qualcosa Se vuoi Ma Vabbè Ma Le volevo Togliere Dal mio Inventario Ma Sono Due Vabbè Sti Cazzo C'è Che serve Per teleportate Sicuramente Facciamo una sfida Prima che stacchiamo Partiamo Tutti e due Da qua In primo Per la Questa La tua Vince Lasciamo Le quadri Nata Sti Doci Ok Che detto Vieni qua Partiamo Da qua Il primo Che arriva A casa tua E mi ci dici Di Va bene 3 2 1 Via Siamo arrivati Insieme Fra Dici Di Buono Pochi Pes Stocca Non Siamo Un Il lavoro Che ti si adiceva Era proprio Quello del Nether Che lì Era una grande sfida Personale E' In effetti Non ho fatto La sfida Personale Sono morto E' Ma è Sorte Cosa Ciao Signorina Signorina Quell'uomo E' pieno Di soldi E' Vabbè Mi ha Dele Ah fra A proposito Ho trovato I croniglie Comunque Sì Il problema E' Portare Le cose Eh sì Aspetta Mi sto screnando Sto facendo le botte Le ditte Ho detto Fra puoi fare Un bel investimento Con i tuoi soldi Quale? Apri Una bella Fabrica Di cose? Per me Vabbè Comunque Venerdì Se tutto va bene Ti diverti Di più Da marinaio Hai fatto bene A riempirli Perché Venerdì C'è la prima barca No Non cazzo Però diventa Un po' Un popolo Nel 1940 Sperdoti Comunque Il timer Ha finito Ragazzi Gigi Ha finito La maratona Ah ok Ho venuto La stessa Sì Ho venuto Pure io Stasera Mi interviene A funzionare Ma hai fatto Tante pozioni Eh sì Cosa vedi Eh sì Fammi vedere La tua merce Sono curiosa È che ho finito Le verga E il Gabri E niente Nessuno mi va A prendere verga Ma fra scusa Ma di tutto questo Perché non ti compro Un altro arcofortissimo Un altro? No dicevo a lui Infatti Un altro arcoforte Come questo No Mi servono Mi servono Fermi Non so Non so Un altro arcoforto Un altro arcoforto Bastardo Che non sei altro Mi servono Un creeper Ah Mi serve Un creeper Ah Vabbè Tiè Non è faccio Ok Non è faccio Ah Ho finito Le frecce Ah Panzer Panzer Aspetta Panzer Un attimo Non è questo Hai trovato Un blu Là Eccolo Gini 2 Eeeh Eeeh Ah Il to Ok Sindaco Aspetta Fai sapere Un attimo L'evoluzione Minta quanta ne hai fatta Oh Dani Ma visto che non sono più minatore del Nether Ho le ultime cose Può essere che ti interessa qualcosa Oh Oh Fra Ma potevi fare il mercantile Il minatore del Nether C'è la pozione contro il fuoco Oh no Ma io non muoio dal fuoco Non è quello Il mio Ah Questa c'è Vabbè No Vuole il cene Che c'è Ah no Cosa Questo un po' per tutti Eh fai eh Ah questo Questo lo vendo Sai che A beviale Che c'è la vasca di questi cosi E lì vuole Comunque hai delle belle pozioni Sono interessanti Questo si possono essere Eh io lo vendo No no Ma lo vendo Ma io ce l'ho vendita nuove monete Di che cazzo sono Dal comune Oh vale Di una vista Ci siamo Andiamo andando a casa mia Sì Aspetta il primo camion Andare come una E poi andiamo in casa Comunque Secondo Voi Vieni Vieni Siamo andando a casa mia Vieni Eh Siamo andando a casa mia Ah, sì. Ma infatti pensa che la mia casa sia la più bella ora. Io ti dico tutto se ti interessa, radici distorte. Mi fai dire cos'è, dammi un po' tutto o fai dire dopo cos'è. No. Blocco di magma. Sì, dammi. Mi ho 15. Dammi, dammi tu. Quanto li compri? 15, do 15. C'ho il basalto, la resta è anche il basalto. No, no, quello ce l'abbiamo. 5-16. L'apri, no? Sì, dai. Quanto mi ha? 10. 10. Vai, 2-11. Panzaro, guarda che magia posso fare. Aspetta. Ma no, no. C'ho due di questo legno qua, non so questo interesse. Ah, dammi te lo fai due, filo due. Eh? C'ho la pietraniera dorata. Ma vedi quel cazzo dei diamanti. No, no, no. Ah, tieni i diamanti, dammeli. C'ho sei diamanti. Dammi. Ti do 60. 60. Sono 92 in totale. Arrivi subito. Aspetta, ma no, c'ho altra roba. C'ho altra roba anche. C'ho, c'ho qualcosa di molto interessante. Però fai cessare. Terra delle anime. No. No, sì, sì, dammi, dammi, dammi. Ne ho sei, però. Ah, dammi, dammi. Ah, no, quella là, mi savo... quella là con la faccia. Ah, quella magari un giorno ti tolgo a prendere di no scasso. Poi? Ossigliana gangente? No. Smeraldi o la vislazzo? No. Mi voglio restituire. Eh, grazie, ci do... Che c'è l'ioca? Che c'è? Ma è 30. Due frammenti di nederito e 30. Ma con 30? Valeria, che dici? Cosa? Due frammenti di nederito e una cosa che non so che cazzo è 30. Che cos'è sta cosa? Eh, un packer, una perletta e uno scudo. No, 30 non ci vale se non lo faccio. Però ma tu non li hai soldi, quindi non puoi comprare. Ma chi? Tu? Non hai più i soldi. Ah, tu non hai più i soldi. Ho capito che non ho più soldi, ma 30 per due secondi che c'è, giusto? Ti sto chiedendo. Ma che cazzo è la somma? Tu me lo diciamo e mica è una niente di termoma. No, nessuno lo compra. Non lo sai, io capisco. È normale, nessuno compra, perché nessuno ce l'ha. Cazzo, c'è 35. Ti piace il nero in più. Vabbè, facciamo 40 e abbiamo chiuso da fare. Va bene. C'è 190. Vabbè, non fa niente. C'è 190. Ti serve? No. E poi c'ho due palle d'oro incantate. No. E poi c'ho 15 crema di magma. Cazè? Questo qua, secondo me, per le pozioni. Ok, dammi le cose a vendere. Ne ho 15. Quanto mi dai a pezzo? 15, che cazzo è? E ho contato che a darvi le ho vendute 8 prezzi. 8? Penso il magma. Sì, perché ci fai delle pozioni strane, non ho capito. No, ma ti ha fatto inculato. Ma ti ha inculato. No, tu hai inculato a lui. Cazzo ne so. C'è, stiamo a fare due pozioni sta merda. E poi sono quelle anche più merdose. Vabbè, dammi le 15. Anzi, aspetta. No, no. Aspetta. Quanto siamo? 132? No, 147. No, 132. Dove facciamo le creme di magma, facciamo 18, abbiamo 150. Abbiamo visuto l'affare. Ok, 150 arrivi. Dando c'ho tre fila di soldi. Eh. Come fa' essere così ricco, dai. Oh, ma che cazzo faccio? Oh, vale, dai. Voi tutti questi soldi? Devi dirmi. Cazzo. Vedi come cosa? Vedere una cosa. Ah, sì. E' un segreto che stai facendo vedere i live. Quindi non è più un segreto. Eh, poi siamo pochi di noi, quindi. Ma svegli, c'era una cassa una volta, aspetta. Vedi cosa c'è dentro? Eh, non vedo. Non c'è un cazzo. Ah, punto. Allora, vuoi la cassa indietro? Ma è mia, ma che indietro? Eh, ah, vuoi siano indietro. Eh, sì, no. Allora, è bene qua. Spera, mi serve un cartello. Una lì, un attimo di credito. Se lo vedo che la testa ti ho. Oh, cazzo. Allora, vuoi 29 soldi indietro. Ok. Devi dirmi che io sono speciale. Che sono meglio di buffo. E tu sei la mia sottopalla. Sto aspettando. Ma andi con cazzo, andi alla mia cassa. Vabbè, ta-ta-ta. Perché hai dei soldi in mano? Perché questo? Sto vedendo da la mano. Capi? Questi soldi sono buoni per spendere le spese. Allora, se ho fatto delle macchine, vuoi fare un bel investimento, io posso pure finanziarti. Ah, ci volevo guadagnare il 50% sulle macchinari. Un pochino. Sei intelligente. Sei un grande imprenditor. Dovi interesse un grande imprenditor? Sì. Ma Dani, sei fottuto il soldo? Sei fottuto la roba, parisci. Sei fottuto. Aspetta. Oh, oh. Vieni qua Carlo, vieni qua. Attenzione, attenzione, attenzione. Aspetta. Vieni qua Carlo. Facciamo i punti perché qua. Gli arabi sono pieni di soldi. Gli arabi? Daniello, guardate là i soldi di Panzer. Hai visto i soldi di Panzer? Sì. Quanti. Quello. Hai visto quanti cazzo di soldi è? Sì. Porca Dio. Sì. Penso Panzer sia l'uomo più ricco del regno. Guardate lo. Apri il naso per la prima volta. Ma sai di questo? Oh, la bomba. Oh, te la bomba in mano. No, qua. Te la bomba in mano. No, qua. La bomba in mano. No, qua. Ma. Ma, caci. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Esplode. La cassa esplode. No, non possono esplode le cassa. Perché c'hanno la protezione. Non provare. Oh, state lì. Aspetta. 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 È un'ipotesi, ho detto. Non ho detto che succede veramente. Aspetta. 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 Chiama. Aspetta. 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 Siete pronti, ragazzi, ad andare via? Dai, vabbiamoci a fare i video strani. Oh, ebbè. Ma, stai un pazzo in casa. Sto bene, cagli. Eh. Non c'è un cazzo per mangiare. Ti vedete. Ma, vai a comprare. oltre a fare i video strani. Tu. Aspetta. Ma che cazzo hai lì? Mamma mia patate. Vale. Ma che cazzo è eripite. Eh, vabbè. Quello che non mi ha nascosto prima, guarda qua. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Oh, doggia. Attacca, doggia. Abbiamo staccheggiato un pibia. Guarda qui. Guarda qui. Oh, è sparito. Che cosa? Questo? Mi dai il libro, vale? No, sto rivisto, perfetto Risacca, grazie, ragazzo No, dai, ma Guarda chi sta, guarda chi sta proprio in Napoli Vabbè, ragazzi, io direi di è arrivato un momento di staccare Tuo Panzer, vieni, ti mando più Non vuoi andare, mi domina il tuo animale No Ai, ai, ai Ciao ragazzi, ciao Ma io la live è finita La live è finita E io ho visto per staccare se bene mi faccio Ma io sono... Ma, 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 ma... Ma, ma, ma... 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 e... compadere i vności Ah? Che facciamo? Allora... Una sola mente mi racconti mi hai messo su disco ad ora ah beh e niente ragazzi è finita la live stacco e ritorno